Sono il direttore della Nuova Ecologia, vi ricordo che questa nostra iniziativa è seguita in diretta Facebook da Forum Rifiuti, da www.lanuovecologia.it, abbiamo anche una diretta Twitter che prosegue, l'hashtag per chi vuole partecipare, contribuire Ecoforum Rifiuti tutto attaccato, attività che è coordinata dallo staff di comunicazione che segue questo nostro evento, Ecoforum vi ricordo è arrivato alla quinta edizione organizzato dalla Nuova Ecologia, dalla Lega Ambiente e dal Kyoto Club. Allora, rapidamente in attesa dell'arrivo degli altri ospiti, vi dicevo abbiamo i primi interventi, a che cosa è dedicato questo nostro pomeriggio di lavoro e di riflessione comune, dopo aver affrontato insieme questa mattina temi importanti che hanno a che fare con il sistema dei consorsi, la filiera dell'economia circolare Made in Italy, il pomeriggio è dedicato alla gestione dei rifiuti verso l'economia circolare. Abbiamo pensato di cominciare questo nostro lavoro proponendovi i risultati di una indagine che è stata svolta dall'Università Bocconi, accanto a me il professor Francesco Bertolini che è docente di Public Policy and Management all'Università Bocconi, non vi anticipo nulla dei risultati dell'indagine che è stata fatta però su un campione significativo di città e di consorsi, posso soltanto dirvi che ci sono delle sorprese, si sfadano un po' di certezze, un po' di miti in positivo e in negativo sicuramente sarà una riflessione interessante sui sistemi di gestione. Poi accanto a me vi presento intanto le persone con cui ragioneremo in primo giro di questo nostro lavoro pomeridiano dei risultati di questa ricerca e non soltanto, cominciando dalla mia sinistra, Ivan Stomeo che è delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti, già questa mattina si è parlato dell'accordo quadro Anci-Conai ci torneremo, vicino a lui Walter Bresciani Gatti che è direttore generale Erzu Erzu è una società, iniziamo con le società che gestiscono i servizi di raccolta e non solo dalla raccolta riciclo, siamo in Versilia, sei comuni della Versilia in Toscana con caratteristiche diverse tra di loro Carlo Montalbetti che è direttore generale di Comieco e qui affronteremo il tema della qualità della raccolta per valorizzare al meglio una delle frazioni dell'economia circolare che come conosciamo tutti importante e significativa poi accanto al professor Bertolini Paolo Contò che è direttore generale di Ale Ambiente qui siamo invece in 13 comuni della provincia di Follice Sena giusto e tra l'altro è una società attiva dal 6 giugno 2017 se non ho letto male primo gennaio quindi sta costituita a giugno 2017 quindi ne ho arrivata ma Paolo Contò che conoscete ha un'esperienza diciamo importante in questo settore e vicino a lui Alessio Ciacci che è presidente Axel qui siamo in un'azienda pubblica con 39 comuni della Val di Susa in Piemonte ma anche per Alessio Ciacci vale quello che ho accennato per Paolo Contò anche una precedente esperienza importante nella gestione dell'ASM di Rieti poi ascolteremo insieme nel secondo giro quando avremo terminato questa prima riflessione e sono qui però già in sala e li saluto e li ringrazio Giuseppe Giampaoli che è direttore generale del Cosmari andremo verso le società che gestiscono impianti di trattamento recupero e di riciclo quindi faremo tutta la filiera non c'è economia circolare e l'abbiamo anche detto questa mattina se non ci sono anche impianti di smaltimento poi vanno progettati e pensati in una maniera diversa ma servono e quindi ne ragioneremo insieme a Federico Poli che è direttore generale della Filippa poi ve lo presenterò più avanti siamo in provincia di Savona, in Liguria, a Cairo Montenotte e Alessandro Battaglino che è il presidente di Barricalla che è la più importante discarica di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non nel nostro paese a Collegno alle porte di Torino concluderanno questo secondo giro di conversazione e di lavoro perché ci piace provare a dargli un ritmo di lavoro a questi nostri incontri è in arrivo da Bari, ci raggiungerà il generale Giuseppe Vadalà che è commissario straordinario di governo per la bonifica delle discariche abusive cioè quando il sistema non funziona insomma che cosa si può fare per mettere il riparo quando questo sistema virtuoso non va come deve andare e poi abbiamo chiesto a Sergio Cristofanelli della direzione generale di Ministro dell'Ambiente grazie di essere qui di concludere per capire questo nostro incontro pomeridiano per capire che cosa c'è in cantiere, cosa si sta facendo che cosa si può fare ancora di più perché questo sistema di gestione sia funzionale quanto possibile al raggiungimento degli obiettivi che la stessa Unione Europea ha fissato con il pacchetto di direttive sull'economia circolare se i nostri ospiti e il moderatore saranno in grado di farlo alla fine dei loro interventi e delle loro presentazioni cercheremo di avere anche uno spazio di confronto per chi vuole restare di dialogo per continuare ad arricchire questa agenda dell'economia circolare che abbiamo cominciato a costruire questa mattina insieme a partire dalla prima sessione dei nostri lavori quando si sono confrontati appunto i presidenti di diversi consorsi con il sottosegretario all'ambiente Salvatore Micillo e con le deputate Chiara Braga e Rossella Muroni bene, io ho terminato, l'ho fatta anche un po' troppo lunga lascio la parola come accennato prima al professor Francesco Bertolini per presentarci i risultati di questa ricerca prego grazie spero che non abbia creato troppa attesa un minimo di attesa cercherò di non annoiarvi più di tanto perché sono sostanzialmente una serie di numeri ma la cosa di cui sono più soddisfatto di questo lavoro è stata la capacità di raccogliere dati dalle aziende che gestiscono il ciclo dei rifiuti perché come sapete non sempre è così facile ottenere questi dati e attraverso questo campione di realtà sia di città di una certa dimensione quindi so che recentemente è stato presentato un lavoro sui costi della raccolta differenziata pochi giorni fa ma in quel caso si analizzavano realtà molto piccole di comuni inferiori a 5.000 abitanti quindi noi abbiamo scelto una strada completamente diversa e siamo partiti volendo andare ad analizzare i comuni superiori a 200.000 abitanti poi nel campione 200.000 è scelto a 150.000 perché avevamo coinvolto alcune realtà che non le raggiungevano ma comunque l'obiettivo era coinvolgere e approfondire questa tematica in realtà di medie e grandi dimensioni cercando di capire che tipo di legami esistono tra alcune parametri di tipo ambientale e alcuni parametri di tipo economico e di tipo organizzativo quindi due flash introduttivi perché non fanno mai male per capire di cosa stiamo parlando e per capire come ci posizioniamo a livello internazionale noi abbiamo una produzione di rifiuti nel Weia 28 nel 2016 di 40 kg e cosa emerge da questo istogramma? emerge che noi non riflettiamo mai su questo aspetto e cioè che noi vediamo che il paese che produce meno rifiuti è la Romania e quello che ne produce di più è la Danimarca quindi qual è la riflessione automatica che troppo spesso ci dimentichiamo di fare e cioè che all'aumentare del PIL, all'aumentare del PIL pro capite aumentano anche i rifiuti cioè oltre all'economia circolare bisognerebbe anche cominciare a ragionare su come disaccoppiare questo andamento perché è un elemento che inevitabilmente ci porta ci porta dei problemi nell'implementare il PIL particolare e a chiudere il ciclo perché noi possiamo dividere i rifiuti come vogliamo ma alla fine se i rifiuti continuano ad aumentare avremo sempre problemi quindi capire un attimino anche come ci posizioniamo e capire come questo modello ovviamente ci sono poi paesi anche come Cipro e Malta che oggettivamente non sono quelli che hanno il PIL pro capite più alto però tendenzialmente c'è un legame tra il PIL pro capite e la produzione dei rifiuti tant'è che negli anni della grande crisi c'è stato un calo dei rifiuti non dovuto all'efficienza o alla maggiore consapevolezza dei cittadini che hanno separato in maniera più efficiente i rifiuti ma perché si producevano meno rifiuti quindi questo è un elemento che secondo me a volte è opportuno ricordare così come è opportuno ricordare che l'Italia non è un paese noi spesso parliamo dell'Italia come un paese con grandi problemi ma sappiamo che oltre alla realtà con grandi problemi siamo uno dei paesi più virtuosi per il recupero dei rifiuti siamo cresciuti di 5 punti negli ultimi dal 2015 noi abbiamo i dati del 2016 perché non sono ancora ufficiali i dati del 2017 quindi nel 2016 su 2015 siamo aumentati i 5 punti nella raccolta differenziata e abbiamo un totale di quasi 16 milioni di tonnellate di ricorda lì c'è un miliardo che è sbagliato il lavoro ha tre fasi identificare il campione confrontare e analizzare in maniera comparata i risultati ambientali e economici e la cosa poi più interessante usando un termine inglese challenging che è più bello che lo sfidante italiano abbiamo provato poi a posizionare le varie città in una specie di matrice di eccellenza con dei risultati che io vi proporrò ma su cui poi i commenti li lascerò a voi nel senso che il mio compito è presentare dei numeri e le interpretazioni poi ognuno le farà a seconda del suo ruolo a seconda della sua necessità e a seconda della realtà in cui opera altro elemento fondamentale in cui inserire questo lavoro sono gli obiettivi quindi gli obiettivi di crescita di raccolta differenziata e di recupero per esempio degli imballaggi e di riduzione del conferimento in discarie queste cose le avete già sentite stamattina però ci sono alcune realtà in Italia dove che sono in forte ritardo il Molise conferisce in discarica il 90% dei rifiuti la Sicilia l'80, la Calabria 58 le Marche il 49, la Puglia 48 quindi il generale poi che gestisce le bonifiche in Puglia è la persona più adatta poi per raccontarci anche questi problemi quindi abbiamo degli obiettivi quando vediamo ci sono alcune realtà nel campione una realtà in modo particolare che presenta dei costi di gestione molto bassi dei costi di raccolta differenziata molto bassi ma anche delle performance ambientali molto basse e non è possibile non è più consentito per mettersi una raccolta differenziata molto bassa perché l'Unione Europea ci impone di raggiungere degli obiettivi molto più alti nei prossimi anni quindi come vi dicevo prima siamo andati a identificare queste città abbiamo poi inserito anche quattro consorzi voi sapete che spesso i consorzi stamattina in questi due giorni i consorzi sono ampiamente presenti stamattina avete sentito Contarina c'è Cosmary che sono in realtà unanimamente percepite come realtà eccellenti quindi le abbiamo inserite anche se ovviamente in molti in molti dei confronti non le abbiamo inserite non le abbiamo usate come termini di paragone perché non aveva senso confrontare realtà metropolitane con consorzi che gestiscono un numero elevato di piccoli comuni comunque l'abbiamo inserito per vedere come alcune città a volte si avvicinano più ai consorzi che alle città meno efficienti poi siamo andati a sottoporre a queste città a queste realtà un questionario per capire che tipo di servizio veniva erogato sul territorio i costi e i risultati raggiunti in modo da riuscire in qualche modo a definire degli indici degli indici complessivi che tengano in considerazione queste tre variabili quindi se noi alla fine abbiamo voluto in qualche modo definire una specie di benchmark una specie di classifica era necessario definire degli indici queste sono le città e i consorzi che abbiamo considerato quindi vedete le città sono Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna Verona, Parma, Reggio Emilia, Livorno e i consorzi sono Contarina, Cem, Cosmari e il consorzio Chiarese la cosa interessante è che questo campione rappresenta circa 8 milioni e mezzo di abitanti quindi non stiamo parlando di un campione di mille persone a cui viene sottoposta un'indagine conoscitiva sulla loro disponibilità a fare la raccorda differenziata ma stiamo parlando di un campione estremamente significativo ancora più interessante è vedere come è distribuito e come è segmentato questo campione la cosa più interessante è che questo campione considera e comprende il 66% dei comuni sopra i 500 mila abitanti quindi stiamo parlando di un'analisi in cui le città sono poche in Italia non abbiamo grandi non abbiamo un numero elevato di grandi città ma questo campione considera il 66% dei comuni sopra i 500 mila e il 37% di quelli sopra i 150 mila quindi stiamo parlando di un campione significativo in termini non solo qualitativi ma anche in termini quantitativi risultati la raccolta differenziata qui abbiamo questi sono i dati più semplici anche da ottenere qui vediamo l'obiettivo di legge della media italiana e vediamo come qua i quattro consorzi si posizionano sui livelli più alti tra le città abbiamo Reggio Emilia e Parma questi sono i dati previsionali del 2017 ma anche considerando i consuntivi 2016 i risultati si attestano al di sopra della media italiana tra le città con più di 500 mila abitanti Milano si conferma quella con la performance migliore l'elemento poi uno degli elementi trasversali che abbiamo spesso utilizzato in questa ricerca è la modalità di esecuzione del servizio il porta a porta risulta essere vedete il verde più intenso le realtà dove il porta a porta è diffuso al 100% delle utenze il Cosmo del 99 ma possiamo considerare che coprono in maniera totale il territorio sono le realtà in cui la raccolta differenziata è la più alta quindi questo significa che una raccolta consente di ottenere dei risultati di raccolta differenziata più elevati altre cose molto più interessanti rispetto alla slide precedente ci dicono delle cose estremamente secondo me interessanti e cioè che se voi vedete nel primo grafico la linea verde la linea verde ci indica la produzione di rifiuti e la la colonna arancione la percentuale di porta a porta e vedete che nella parte sinistra escluso Torino le realtà che hanno una percentuale di porta a porta del 100% hanno una produzione di rifiuti più bassa quindi anche questo è un elemento che è estremamente interessante così come è interessante la seconda che è legata alla prima figura dove siamo andati a vedere l'anno di avvio del porta a porta e l'anno di avvio del porta a porta vedete Milano è stata la prima che nel campione che abbiamo analizzato ha ha introdotto il porta a porta e è quella che ha una quantità di rifiuti più bassa rispetto a quelle che hanno introdotto il porta a porta in anni successivi nei periodi successivi estremamente interessante anche questo il porta a porta Milano è diventata la città con più di un milione di abitanti con maggiore quantità di rifiuti organici raccolti e anche qui vedete le colonne il verde indica naturalmente c'è un risultato positivo e anche qui le realtà che hanno una porta a porta totale del 100% hanno una quantità di rifiuti organici raccolte la frazione organica più alta rispetto a quelle che hanno una porta a porta più bassa e qui vedete che Milano addirittura si posiziona meglio di tre consorzi che vengono spesso identificati come in assoluto i più efficienti sulla raccolta dei rifiuti anche qui la raccolta dell'organico un elemento fondamentale è poi la quantità di contaminazioni che si trovano nel materiale raccolto Milano ha il 100% e ha un 100% di porta a porta e la quantità più alta di chilogrammi raccolti pro capite e ha la contaminazione intorno al 5% e mentre vedete che le realtà dove il porta a porta è più basso come ad esempio Bologna hanno delle contaminazioni più alte e questo ovviamente incide poi in tutto il ciclo perché ho fatto uno studio qualche anno fa insieme a CIC dove la stima del costo per il settore del riciclo del rifiuto organico legato alla presenza dei contaminanti era di circa 52 milioni all'anno quindi significa che il sistema per ripulire tra virgolette il materiale spende 52 milioni all'anno e quindi la filiera dell'umido deve sostenere dei costi legati appunto alla minore qualità del materiale sempre legato alla qualità del materiale è un elemento fondamentale il contributo con AI che in qualche modo certifica la qualità del materiale raccolto ma non solo anche qui Milano mi spiace io non sono neanche di Milano quindi non devo fare le lodi di Milano ma oggettivamente essendo partita molto tempo fa ha probabilmente sviluppato dell'esperienza delle competenze e non solo in termini di qualità ma anche nella capacità di collocare il materiale perché è importante la qualità del materiale raccolto ma è importante anche avere la capacità di collocarlo sul mercato quindi di trovare dei clienti dei contratti riuscire in qualche modo a valorizzare meglio il materiale raccolto e anche qui vedete come il contributo con AI di Milano sia il più alto tra le realtà considerate e tra le realtà che ci hanno dato poi questi dati perché alcuni dati e alcune realtà non ce li hanno comunicati quindi le nostre analisi le facciamo sui dati che abbiamo considerato costi operativi e raccolta differenziata anche qui la linea intermedia divide le grandi città dalle città più piccole quindi la linea blu ci fa vedere l'andamento dei costi e anche qui vedete che nella parte nella parte sinistra Milano ha il costo più basso tra le città con più di 500.000 abitanti di 300.000 in realtà perché poi Bologna raggiunge 500.000 abitanti e si avvicina a un livello di costo delle città più piccole che hanno una raccolta differenziata in questo caso è difficile leggere un trend chiaro ma comunque l'andamento decrescente dei costi finisce con Genova che è una realtà piuttosto atipica dove c'è una percentuale c'è un dato di costo molto basso ma c'è anche una raccolta differenziata molto bassa e delle performance in termini di raccolta di qualità non ancora soddisfacenti non ancora in grado neanche di avvicinarsi agli obiettivi di legge tantomeno agli obiettivi previsti per i prossimi anni costi operativi di gestione anche qui vedete che i costi tra le città di 300.000 Milano nonostante abbia la porta a porta del 100% al costo più basso tra le città che hanno più di 300.000 abitanti e questo è un'ulteriore conferma di come il porta a porta abbia una serie di benefici se uno che non frequenta questi ambienti e guarda in maniera superficiale il problema verrebbe da dire in maniera quasi scontata se tu vai a raccogliere i rifiuti porta a porta il costo aumenta in realtà ci sono tanti vantaggi anche da un punto di vista economico e questi sono dati sinceramente che a noi hanno sorpreso ma che dovrebbero essere portati come elemento di riflessione per chi governa poi questa tematica costi della raccolta differenziata anche qui vedete come la raccolta differenziata anche qui l'arancione è sempre il porta a porta crescono e i costi più alti sono a Roma dove la raccolta il PAP o a Bologna dove il PAP è più basso rispetto alle altre città quindi sono tutti elementi che ci danno una serie di spunti di riflessione costi operativi abitanti anche qui tra le città di grande dimensione Milano è quella che ha i costi più bassi costi operativi di gestione foro su Milano è quella che mi sembra di fare la lode a Milano ma lungi da me è solamente una presentazione dei risultati Milano è la città che ha la quantità maggiore di rifiuto raccolto e ha un costo operativo tendenzialmente in linea con città molto più piccole qui non c'è un trend è un'interpretazione univoca nel senso che come vedete le linee blu e azzurre le linee blu sono le grandi città le linee azzurre sono le città più piccole ma in realtà si fa fatica a interpretarlo in maniera lineare è un'informativa e come tale è un'informativa di completamento del lavoro che è stato fatto dopo questa analisi questa serie di tabelle che vi abbiamo raccontato siamo andati a creare quei famosi indici quello famoso tentativo di posizionamento andando a considerare la completezza del servizio le performance quindi la raccolta differenziata l'umido raccolto e i costi ovviamente attribuendo in un caso valori crescenti negli altri casi valori decrescenti cioè ovviamente l'aumentare dei costi non è un elemento positivo ma è un elemento che diminuisce l'indice complessivo e ecco qua e l'approvazione è un indicatore di sintesi ci vuole un attimo per spiegare questa cosa perché non è così immediata allora cominciamo dai colori il verde positivo il rosso non è altrimenti positivo il fatto che il verde sia più grosso significa che sono maggiori servizi erogati quindi c'è una erogazione del servizio più completa e più in grado di soddisfare e di ridurre i problemi ai cittadini la parte in alto rappresenta i costi e quindi voi avete da un lato le performance dall'altro parte i costi e la dimensione rappresenta la quantità di servizi erogati quindi potete vedere ognuno poi interpreta come meglio crede nel senso che identifica la realtà lui più vicino che conosce meglio ma questo secondo me è un elemento che ci consente di innanzitutto di definire una metodologia perché un modello di questo tipo può tranquillamente essere replicato e ampliato ad altre realtà io purtroppo ve lo dico francamente abbiamo provato anche a sentire realtà sotto la capitale siamo a Roma oggi ma con risultati non soddisfacenti nel senso che nessuno ci ha risposto e dopo un po' ovviamente avevo dei tempi di scadenza per questi lavori quindi non posso aspettare sei anni per avere un questionario compilato e spero che la prossima volta anche mi arrivino dei questionari compiliati anche dal sud in modo da avere un questionario più completo di tutto il paese l'altra cosa che emerge che volevo portare all'attenzione del nuovo governo di chi poi in qualche modo deve gestire queste problematiche complesse è quello che ci sono nel nostro paese delle realtà estremamente positive che dovrebbero in qualche modo essere portate ad esempio di modello in giro per il mondo quindi dovremmo non solo io vengo in questa realtà ogni tanto mi chiamano e vengo volentieri a raccontare questi numeri però mi piacerebbe che magari il prossimo anno in questo contesto ci fosse anche in realtà di altri paesi per confrontarci con altri paesi mi piacerebbe che questo lavoro venisse fatto confrontando Milano che ha vinto il campionato italiano con Monaco Vienna Barcellona o altre realtà che noi pensiamo siano chissà cosa poi in realtà chi gira il mondo si rende conto come non siamo messi così male e quindi come tutte le cose noi pensiamo sempre che l'Italia sia il peggiore paese in assoluto in realtà su tante cose siamo anche sulla gestione dei rifiuti ci sono realtà che dovrebbero in qualche modo essere valorizzate e essere portate a conoscenza a livello internazionale io mi fermerei qui ripeto non voglio dare giudizi di merito sulle varie città ma vi ho portato un contributo e un'analisi di tipo quantitativo e qualitativo che secondo me può dare degli spunti di suggestione di riflessione utili per chi opera in questo settore grazie grazie spunti tanti intanto vorrei invitare il direttore generale di Cosma a raggiungerci subito qui perché fa da ponte in realtà l'abbiamo visto tra l'altro oggetto della ricerca per cui mette insieme il sistema di gestione il sistema di gestione con ottimi risultati poi con la parte con la parte impiantistica si prende anche un extra bonus perché ha risposto subito no per dire le cose già mi è stato chiesto se è disponibile lo studio per divulgarlo e diffonderlo c'è un comunicato stampa nella cartelletta che sintetizza questi numeri poi presumo che i risultati noi lo metteremo ovviamente a disposizione beh insomma di spunti e di stimoli ne sono arrivati tanti che fanno molto riflettere anche sulla qualità e sulle performance del servizio porta a porta in particolare perché il focus è questo di questo stiamo parlando allora io chiamerei subito in casa Ivan Stomeo delegato nazionale Ancine c'è rifiuti già sindaco quindi con un impegno anche da amministratore ci siamo scambiati due battute prima per riportare anche attenzione sull'accordo quadro Anciconai ma ecco che riflessioni le ha suscitato la lettura di questi dati di queste analisi obiettive ripeto sono valutazioni frutto di numeri Sì sì i risultati che arrivano dai produttori della notizia Sono un po' discordanti con i dati di Utilitalia perché la scorsa settimana Utilitalia ha lanciato altri dati sui costi del Comune sotto i 5 mila abitanti noi costitiviamo un comune di dimensione molto più alta Poi l'altro dato importante che comunque conferma il lavoro di questi vent'anni che c'è stato in Italia è che abbiamo un'Italia a due velocità abbiamo un'Italia del nord che corre e un'Italia del sud che va un po' a rilento e questo è un tema da affrontare e devo dire che il lavoro che ha fatto il Corai in questi 20 anni prezioso a mio avviso insieme a Lanci ha dato la possibilità anche al sud e sta continuando a dare la possibilità al sud di rimettersi in carreggiata noi dobbiamo spingere il sud a rimettersi in carreggiata per avere un paese equilibrato da questo punto di vista perché avere un paese a due velocità su un tema così delicato come questo non giova a nessuno molto velocemente io stamattina non c'ero perché ero in un altro convegno io da un anno ho questa telega piena da parte del presidente De Caro e seguo per i comuni d'Italia il tema dei rifiuti e dell'energia in particolar modo questo dei rifiuti che ci vede ad una scadenza importante del quarto accordo quadro il prossimo marzo del 2019 e quindi noi dobbiamo mettere in piedi un lavoro con le amministrazioni locali perché guardate possiamo parlare di raccolta differenziata possiamo parlare di riciclo possiamo parlare di tutto quello che vogliamo ma se i cittadini non vengono coinvolti e non sono coinvolti in questo processo di selezione non ce ne usciamo più quindi il lavoro che stiamo cercando di fare in Anci in questo periodo è il seguente intanto stiamo cercando di coinvolgere il più possibile gli amministratori locali e questo grazie anche al Conai abbiamo fatto un accordo con il Conai terremo sei incontri anzi sette con l'Assemblea Nazionale che si terrà a Rimini ad ottobre ma partiremo il 18 di luglio a Bari sei incontri nazionali per incontrare il territorio quando dico il territorio dico le aziende dico le associazioni di categoria dico i sindaci dico gli assessori dico i cittadini quindi noi faremo sei grandi manifestazioni la prima lo ripeto se c'è qualche qualcuno che vive in quella parte d'Italia al mezzogiorno la prima sarà di lancio il 18 di luglio a Bari insieme al Conai e sarà una giornata di ascolto nello stesso tempo abbiamo messo in campo come Anci una piattaforma online che la lanceremo il 18 sulla quale possono scrivere tutti i cittadini tutti i portatori di interesse rispetto all'accordo rispetto al vecchio accordo le criticità che c'erano nel vecchio accordo ma anche rispetto al nuovo accordo qualche suggerimento la terza cosa che stiamo facendo che abbiamo già avviato noi abbiamo messo in piedi un tavolo permanente coinvolgendo tantissimi enti e tante associazioni in Anci e insieme a loro stiamo cercando di prendere degli spunti importanti da portare al tavolo col Conai faremo delle audizioni perché un altro tema importante che nel corso di questi anni non c'è stato oltre al coinvolgimento del territorio è che una pedina importante un pezzo di questo puzzle importante che sono i riciclatori non hanno mai detto la loro sull'accordo nessuno ha mai detto qualcosa su che direzione andare quindi siccome per avere un buon risultato bisogna anche coinvolgere i riciclatori allora al tavolo nostro di Anci metteremo in piedi delle audizioni e ascolteremo anche loro quindi questo è il lavoro che noi stiamo cercando di fare in Anci secondo me arriveremo a marzo del prossimo anno con una proposta da parte di Anci forte coinvolgendo i cittadini perdonatemi un'ultimissima riflessione e poi mi avvio a concludere noi parliamo di economia circolare intanto economia circolare vuol dire esattamente il contrario di quello che si è fatto fino a ora cioè la produzione il consumo e poi si getta via tutto adesso con il concetto di economia circolare è meno male che l'Europa che spesso da degli spunti importanti l'ha fatto negli anni 90 e da lì poi è nato diciamo sul suggerimento dell'Europa lo dicevamo stamattina anche l'altro convegno è nato il consorzio è nato il decreto Ronchi poi è nato diciamo il CONAE e così via ma la cosa importante per mettere in piedi davvero un'economia circolare è che noi dobbiamo raggiungere dobbiamo guardare tre grandi obiettivi il primo obiettivo è mettere in campo la responsabilità dei produttori cioè è impensabile che i produttori non abbiano delle responsabilità su questa materia la seconda e non mi sottraggo è la responsabilità delle comunità dei cittadini quindi una responsabilità a monte di chi produce il rifiuto una responsabilità a valle di chi deve poi separare e approcciarsi con il tema dei rifiuti e poi c'è il terzo grande obiettivo che è la politica cioè la politica deve fare la sua parte e deve in qualche modo coniugare le responsabilità che si trovano a monte cioè quelle dei produttori con le responsabilità dei cittadini guardate che il nuovo pacchetto sull'economia circolare e qui mi riallaccio alla battuta che ho fatto rispetto ai dati discordanti sul costo della raccolta differenziata noi parliamo sempre dei maggiori oneri ma nessuno riesce a definire esattamente quali sono i maggiori oneri per la raccolta differenziata non riusciamo a bisogna non parlare più di maggiori oneri iniziamo a parlare del costo effettivo della raccolta differenziata questo è il tema secondo me che bisogna mettere sul tavolo anche insieme al Conai è la responsabilità dei produttori e ci tengo a raccontare a portare a questo tavolo l'esperienza di Contarina non lo dico perché magari c'è qualche anche rappresentante di Contarina ma quello che è stato fatto lì a Contarina al di là del sistema generale ma l'ultima cosa che hanno inaugurato adesso cioè il recupero dei prodotti assorbenti quello secondo me dà la dimostrazione che le cose si possono fare che si può investire in ricerca perché guardate è impensabile pensare scusate il gioco di parole che il 40% il 45% il 50% di quello che noi raccogliamo continuiamo parlo della plastica continuiamo a portarlo negli impianti di incendimento questo non vuol dire economia circolare economia circolare vuol dire investire come è stato fatto come hanno fatto un gruppo di imprenditori importanti rispetto al recupero dei prodotti assorbenti e quello è un esempio virtuoso di economia circolare secondo me lo si può fare anche su altri su altri prodotti per portare a casa il risultato dell'economia circolare e tutti quanti parlano però poi alla fine bisogna concretizzare bisogna stringere su questo tema il lavoro che stiamo facendo noi è questo e mi auguro che arriveremo ad un nuovo accordo con il CONAI che vada leggermente a favore rispetto a quelli passati dei cittadini perché parliamo di economia circolare ma poi chi ci mette le mani in tasca per pagare quel sistema lì sono i nostri cittadini grazie Ivan Stomeo io approfitto prima di dare la parola a Carlo Montalbetti e suscitargli anche un ricordo personale approfitto di questa occasione per chiedere se per caso non sia possibile valutare insieme una facilitazione della possibilità di estendere questa modalità di ricerca nelle aree metropolitane del sud cioè provare ad applicare questo metodo da Roma in giù potrebbe essere interessante credo assolutamente sì ma un altro tema sono i dati appunto non si capisce perché i dati non possono essere trasparenti possono essere messi a disposizione molti enti fanno ricerche banchetati e cose ne facciamo una due e basta questo è un altro tema sul quale bisogna riflettere c'è già una battuta no non è un confronto io vi racconto un episodio telefonico che ho avuto personalmente non dico la città ma mi hanno detto ma perché mai io dovrei dare questi dati quindi perdere tempo energia fatica per dare dei numeri in cui noi risultiamo essere dei disastri quindi non fa una piega il ragionamento io devo farmi un mazzo così per fare la figura e quindi grazie dell'invito ma ripeto non fa una piega il ragionamento per cui però questo è un episodio che ho avuto io personalmente al telefono con la realtà del sud magari avere consapevolezza dei propri limiti in maniera misurabile e obiettiva aiuta a migliorare non si capisce mai da che punto si parte anche nel racconto ai cittadini se la dimensione e la scala consentono risparmi e un'efficienza uno se può impara vorrei coinvolgere Carlo Montalbetti perché glielo ho detto non ricordavo male la sua esperienza nella filiera dell'economia circolare inizia a Milano che impressione le ha fatto vedere Milano con quel bollino verde grande collocata diciamo in cima alla classifica oggi in Italia delle realtà virtuose sui criteri sui benefici che genera il porta a porta evidentemente molto positiva anche se non inaspettata evidentemente per tutte le cose che sono avvenute nel momento in cui ha preso atto di un'emergenza è un'emergenza che è nata a metà degli anni 90 quando venne chiusa la discarica di riferimento Milano venne invasa dai sacchi neri perché non sapeva dove mandare il rifiuto e a quel punto ci fu una scelta radicale cioè di passare alla raccolta porta a porta punto e basta e da quel momento in avanti è cominciato un processo che evidentemente ha portato dei risultati naturalmente Milano non è l'unica ce ne sono altre e qui sicuramente condivido anche perché noi stiamo come consorzio della carta investendo parecchio nel meridione perché evidentemente questa è l'area nel quale bisogna lavorare e anche dare dimostrazione pratica della funzione dei consorzi cioè sussidiaria serve laddove c'è bisogno di fare dove il mercato funziona la funzione dei consorzi diventa diciamo relativa secondaria anzi li possiamo persino chiudere volendo ma dove non si riesce a raccogliere chi interviene c'è bisogno di un soggetto di questa natura ma chi sarebbe mai andato a pantelleria a prendere la raccolta differenziata eppure ci andiamo questo cosa vuol dire vuol dire che nel meridione dove appunto c'è questa attenzione molto particolare però abbiamo situazioni in grande evoluzione il meridione non va letto allo stesso modo Bari io sono convinto che se riuscissimo e spero di farcela a fare un campionato nella raccolta della carta tra Bari e Milano io non sono sicuro che vince Milano nella carta Napoli Napoli impossibile le Coballe Napoli nel raccolta della carta gli abbiamo dato una mano hanno avuto un balzo del 25% cosa voglio dire con questo che ci sono tutte le possibilità e le potenzialità certamente dobbiamo riuscire a definire questa cooperazione quella che è stata appunto la grande sfida il grande risultato quando a Milano iniziò l'emergenza qual è la grande sfida che abbiamo davanti la Sicilia e Roma queste sono due grandi sfide che dobbiamo riuscire a vincere dove anche il sistema consortile che si sta impegnando moltissimo cerca e io sono convinto che se troviamo amministratori e soprattutto cittadini che si danno da fare i risultati non mancheranno vorrei spendere una parola sulla questione della circolarità intanto con un dato la circolarità è un elemento fondativo del DNA nazionale nel senso che è un paese scarso di risorse questo è notissimo e quindi voglio dire da tempo abbiamo praticato questa virtuosità di recuperare riutilizzare riciclare stiamo praticamente abbiamo chiuso questo lavoro assieme a un cartello fatto da più consorzi su cosa rappresenta l'industria del riciclo in Italia è un'industria fondamentale sono più di 40 milioni di tonnellate che vengono recuperate e riciclate è un fattore di competizione internazionale è ovvio che dietro questo mondo ci sono poi tutta una serie di problematiche e quindi naturalmente c'è poi anche la necessità di un governo un governo che faccia prima di tutto riconoscere il ruolo di questi settori e li renda anche più competitivi ma non è pensabile che ci siano i tedeschi che sostanzialmente hanno colonizzato attraverso il sistema delle raccolte differenziate i Balcani e oltre perché hanno visto in quella un'area molto interessante dal punto di vista del riperimento delle materie prime e seconde e noi non siamo capaci accanto alla grande abilità del vendere la meccanica di vendere le automobili di vendere la moda di non vendere dei pacchetti che permettano a grande realtà di milioni di abitanti di fare una gestione corretta e valorizzazione dei rifiuti da città del Messico a Buenos Aires e oltre questa è una componente nazionale che secondo me merita di essere assolutamente appoggiata il terzo punto dato che mi hai dato la parola è certamente quello di rendersi anche conto e se lo faceva bene parlando del rinnovo dell'accordo di quali sono gli elementi che hanno la necessità di una revisione ne ha citati alcuni io ne voglio citare uno in particolare abbiamo un problema molto serio per quanto riguarda lo smaltimento che è dovuto alle impurità che arrivano dalla raccolta differenziata non stiamo parlando di elementi nocivi stiamo parlando di componenti che nella raccolta della carta finiscono e non dovrebbero finire come delle plastiche punti metallici eccetera sono circa 300.000 tonnellate oggi praticamente la gran parte finisce in discarica qualcosa finisce negli inceneritori i prezzi di scarica inceneritori salgono a più non posso e non riusciamo a trovare una modalità più intelligente per valorizzarli prima questione io sono convinto di sì infatti penso che sarà uno degli argomenti nel rinnovo dell'accordo cioè prendere atto di questa situazione secondo perché è inutile che ci nascondiamo è necessario che anche il sistema industriale nel suo complesso rifletta sulle caratteristiche degli imballaggi in questo caso parliamo di imballaggi che immette sul mercato per cui alcuni imballaggi evidentemente non sono riciclabili e quindi si faccia una riflessione per trovare delle alternative col biodegradabile noi stiamo lavorando perché in questo caso abbiamo le realtà Milano ma anche Roma ma in generale grandi città tendono sempre di più a sviluppare il cibo in casa che viene consegnato ma i contenitori che arrivano nelle case per la gran parte non sono riciclabili e non possiamo immaginare invece di trovare modalità per cui siano compostabili quindi biodegradabili immaginando per esempio cartoncino accoppiato a una via plastica quindi cosa voglio dire voglio dire che c'è tutta una gamma che riguarda la progettazione che è evidentemente indispensabile per far fronte alle nuove evoluzioni ci sono delle sfide di cui noi già oggi siamo dentro e forse non ce ne rendiamo conto a Milano ogni mese 650 mila pacchi sono consegnati a casa l'e-commerce sapete cosa ha voluto dire questo un cambiamento all'interno delle politiche gestionali dell'AMSA perché l'AMSA prima raccoglieva sostanzialmente riviste giornali e una componente di imballaggio 25-30% adesso gli imballaggi sono drammaticamente saliti quindi ci vogliono caratteristiche diverse nel servizio ma di questi imballaggi che arrivano a casa quanti sono poi quelli che possono essere facilmente destinati al riciclo aprite uno di quei pacchi dentro ci trovate delle cose che sono non sono utilizzabili ecco quindi che è un problema secondo me molto significativo è quello che riguarda la capacità di poter ridisegnare riprogettare e su questo l'industria evidentemente quella più consapevole è avanti Stomeo l'ha citato e lo voglio ribadire siamo arrivati qui oggi nel caso della carta siamo circa 3 milioni e mezzo questo è il dato del 2017 quindi un balzo rispetto a 20 anni fa impressionante eravamo circa 800 mila tonnellate 20 anni fa quindi significativo ma perché ci siamo arrivati è un momento in cui noi mettiamo in discussione parlo dei giornali televisioni l'Europa ma ci siamo arrivati perché l'Europa con un relatore italiano l'onorevole Vertemati fece approvare una direttiva sugli imballaggi se non ci fosse stata quella direttiva non avremmo fatto nulla per i mille interessi che evidentemente confliggono gli uni con gli altri quindi prendiamo atto che alcune scelte che il nostro paese ha fatto sono state scelte obbligate e io dico per fortuna perché ci ha messo nelle condizioni oggi di poter presentare un sistema che è quello con AI che avrà bisogno di fare una revisione perché a me sono passati 20 anni è evidente che c'è bisogno sempre di vedere le cose ma nella sostanza però ha raggiunto degli obiettivi incredibili prima di tutto è riuscito a fare cooperazione tra i produttori ma quando mai i produttori si mettono d'accordo produttori utilizzatori e commercianti ma li avete mai visti assieme impossibile infatti hanno tre confederazioni la Confindustria la Confcommercio mica stanno assieme con AI stanno assieme e ci sarà pure un motivo se qualcuno è riuscito a metterli assieme dando il potere evidentemente determinante poi del controllo all'autorità pubblica io penso che su questo dovremmo un po' riflettere per capire cosa vuol dire anche il rapporto che noi dobbiamo avere con questa entità oggi un po' diciamo così confusa che è l'Europa grazie dell'attenzione grazie a Carlo Montalbetti i sistemi di gestione i sistemi di gestione le modalità con cui si organizza la raccolta porta a porta in particolare poi sono un po' un imbuto attraverso il quale entra di tutto dall'ecodesign dalla progettazione a monte al comportamento dei cittadini alla qualità della raccolta differenziata che ha a che fare appunto anche con i nostri comportamenti personali io vorrei coinvolgere in questa riflessione Paolo Contò per prendere un dato che è emerso dalla ricerca e anche un'osservazione sui numeri in apparente contraddizione c'è un problema di scala per l'esperienza che tu hai cioè l'efficacia l'efficienza economica del sistema cambia così in maniera così in base appunto alla tipologia la quantità di abitanti coinvolti cioè quanto incide e quindi quanto uno ha una percezione distorta dell'efficacia del sistema perché a guardare i dati che abbiamo ascoltato prima la correlazione tra chi è partito prima ha cominciato prima fa il cento per cento di porta a porta e quindi riduce i costi sembrerebbe immediato che nella sua esperienza che cosa ne viene fuori non ero preparato a questa domanda però e beh ma insomma minimo diciamo penso che abbia le competenze per rispondere ecco noi notiamo nei nostri comuni che vanno da mille a ottantaquattromila abitanti che è il comune nostro maggiore parlo di Treviso non è il tema di oggi a cui mi è stato assegnato i numeri più intestati e c'è una differenza perché in genere ci sono dei servizi intensivi dove c'è intensità urbanistica ed è corretto progettare in questo modo cioè man mano che aumenta la complessità che non è la complicazione aumenta anche la complessità di sistema quindi questi costi vengono intercettati e questo si vede nella misura che però statisticamente va affrontato in termini di ricerche perché nel mio caso potrebbe avere dei contenuti e altri casi degli altri sostanzialmente la raccolta di rifiuti non so se ve ne siete accorti non è come la gestione di un tubo del gas o un tubo dell'acqua perché e anche lì ci potrebbe essere qualche differenza ma è una montagna di tubi fatta di tanti flussi che funzionano in maniera diversa e di fluidi diversi diciamola così e quindi a seconda di quanti tubi ci sono si cambia il costo si cambia la modalità di servizio e via dicendo quindi è molto più complesso se c'è una diversità di approccio fra lo studio di Federambiente e questo interessante lo dico pubblicamente studio che è stato fatto che ha introdotto una sua metodologia anche di rappresentazione veramente subito percepibile è perché ci sono complessità da indagare secondo me è la strada giusta è quella di continuare a studiarci prima di lasciarle lo spazio per la breve interventa prendo soltanto un secondo per ricordare tra le attività che stiamo facendo per promuovere questo sistema nel mezzogiorno ne parlava prima Carlo Montalbetti Sicilia Munizia Free che è una campagna importante promossa telegambiente che ci vede proprio vicino alle realtà più complicate e difficili ecco quindi fatte salve queste differenze la cosa che si accennava prima questo ruolo dei consorsi di accompagnamento e di sostegno nella realtà dove magari economicamente i conti non tornerebbero proprio a una funzione decisiva insomma civile in qualche modo importante resto ancora sul tema del professore l'interessante esperienza ripeto ancora fuori tema su Treviso è che siamo riusciti a individuare dei servizi di base dove far corrispondere a tutti i cittadini di tutti i comuni una tariffa di base unica che è l'ideale mi immagino di essere l'arera e immaginare finalmente che a un determinato standard di servizio vi sia una tariffa non una per comune e una per ogni declinazione urbanistica non sarà possibile una regolazione di questo tipo abbiamo fatto uno sforzo i servizi di base li abbiamo individuati in un certo modo e i servizi aggiuntivi hanno costituito delle tariffe aggiuntive a motivo di quello che dicevo prima quindi è possibile spingerci con delle metodologie per trovare anche dei minimi comuni e denominatori da questo punto di vista i consorzi non sono altro che un buon campione con una gradazione di diversità fra comuni e che quindi possono dare del restituire delle informazioni adeguate da questo punto di vista per il decisore per scegliere fuori tema finito per il resto ho finito perché in realtà mi sono chiesto e vi chiederete anche voi come mai sono stato chiamato a parlare di una società costituita il 6 giugno del 2017 e funzionante dal 1 gennaio 2018 e che ancora il suo piano industriale non ha trovato ancora espressione quindi la domanda è legittima va bene che il tema è le aziende verso l'economia circolare e sottolineo il verso però mi sono chiesto perché Stefano Ciafani ha pensato che Ale Ambiente questa società nuova meritasse una sottolineatura allora ho ricordato come l'anno scorso in questa sala o una sala analoga lui ha rilasciato un'intervista che ho letto il giorno dopo dove mi ha definito con una similitudine calcistica come un famoso calciatore Messi che entrava su uno stadio nuovo quello di Forlì come un campione non è vero ma lui è mio amico e per cui lo dice per quello no peraltro non funziona era un anno fa un anno fa non si è indisciminato era un anno fa era corretto un anno fa perché quindi allora ho usato mi sono spiegato questo invito con un'altra similitudine di tipo calcistico perché probabilmente pensa che Alea sia una grande promessa ecco usiamo questi similitudini perché è una grande promessa perché ha delle promesse da mantenere sì in un territorio di 183.000 abitanti della zona forlivese tra cui la città di Forlì ha degli obiettivi importanti da raggiungere entro un anno dell'avvio e che applicherà con un sistema di raccolta porta a porta e tariffa puntuale queste sono le promesse come quando si vede un giocatore giovane che comincia a tirare i calci giusti a prendere giusto il sette dei pali e che quindi promette bene promette bene però anche per qualche altra buona notizia che dal primo gennaio è riuscito ad avviare già il sistema di distribuzione dei contenitori e che già stanno inondando il territorio dei comuni e che a gennaio del prossimo anno a solo un anno dalla nascita porterà a regime tutta una nuova realtà e questo sia penso sia una grande promessa anche da questo punto di vista la rapidità con cui un sistema può cambiare in un territorio questa è una buona promessa guardate le mie diapositive sono due questa e quella dopo un fronte retro praticamente possiamo anche chiamarlo l'altro aspetto che tengo a sottolineare che è una buona promessa perché sperimenta una strada nuova che è questa in qualche modo mi collego a quello che ha detto Montalbetti perché non cooperare fra soggetti fra stati fra realtà io nel mio piccolo dico anche all'interno dell'Italia per trovare degli strumenti di accompagnamento di nuove realtà questo è stato il motivo per cui un Veneto oggi si trova in Romagna abbiamo stretto un accordo di cooperazione che è un accordo di diritto pubblico che coinvolge gli enti di riferimento dei due territori gli enti pubblici di riferimento dei due territori e che per giurisprudenza europea quindi mi allargo c'è già stato un precedente validato dalla Corte di Giustizia importante più precedenti ma prima in Germania in cui sono stati confermati che i rapporti intercorrenti tra società pubbliche in questo caso figlie di un accordo di cooperazione rispondono all'interesse pubblico non agli interessi commerciali tipicamente è nato anche in Italia con la nostra esperienza non è la prima nell'Unione dei Comuni Forlivese fra il bacino dei comuni quindi i miei 50 comuni di Treviso e i miei 13 comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese dove lo scambio di informazioni la cooperazione la collaborazione e l'aiuto per avviare questo servizio di una nuova società che è come un bambino piccolo che va accompagnato nei primi passi porterà un modello ed esperienza in un altro territorio lo farà crescere lo farà diventare autonomo senza necessariamente per forza tra tutti i possibili modelli industriali creare aggregazioni diciamo sistemiche nel senso come si potrebbe intendere normalmente ma creando delle reti delle relazioni quindi pubbliche o delle reti fra soggetti industriali immaginiamo se ognuno quindi sono lì come amministratore per un tempo ora come direttore per un tempo definito per un progetto ma che non abbandonerà un nuovo soggetto manterrà il legame della reti proviamo a immaginare quindi questa buona notizia questa buona promessa estesa a gemellaggi o meglio chiamiamolo col nome amministrativo questa situazione potrebbe proprio portare a un nuovo assetto in altri territori quindi non è più faccio il progetto consegno il progetto leggi la bibbia e impara memoria e fai quello che c'è scritto no mi affianco ti accompagno ti porto avanti ti aiuto ti lascio libero e rimaniamo collegati insieme solo queste sono le mie notizie di oggi tra un anno probabilmente avremo anche delle notizie da portare in termini di risultati me lo auguro per il momento è un momento di grande sforzo stiamo coinvolgendo 96.000 97.000 utenze e questo è il mio unico messaggio il resto è tutto da fare grazie grazie di cuore a Paolo Contono nel frattempo e li salutiamo sono arrivati ci hanno raggiunto li ascolteremo tra poco il generale Giuseppe Vatala ben trovato commissario straordinario di governo per la bonifica di scarica abusiva ed è arrivata l'assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari ben trovata la lasciamo accomodare ne lasciamo ascoltare qualche intervento e poi la chiameremo subito a darci il suo contributo abbiamo cominciato a ragionare di cooperazione di diffusione di buone pratiche di esperienze positive all'interno dei confini nazionali ma non solo è perché Alessio Ciacci che vorrei coinvolgere ora è presidente di Axel che è una azienda pubblica l'ho detto prima 39 comuni della Val di Susa in Piemonte già presidente di SM Rieti quindi anche lui con un'esperienza diciamo nel paese da promotore da manager di questi servizi ma viene da un incontro particolare un forum particolare che si è svolto in Brasile intorno al tema delle reti dei rifiuti zero ma lo pregherei di raccontarcelo e di dirci dovrebbe esserci un ospite a sorpresa in sala a cui poi chiederemo di farci un breve saluto prego grazie inizio anch'io dal fuoritema 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 grazie questo è il pomeriggio del fuoritema allora no in realtà siamo in tema ma dopo appunto mi collego a quello che era il mio intervento perché appunto da assessore dell'ambiente che fu 12 anni fa iniziamo il porta a porta per primi in Toscana comune di Capannori 45.000 abitanti e per tornare al tema di stamani dei giganti e dei nani allora mi sentivo veramente nano oggi a essere qua a respirare questo clima mi sento veramente un gigante perché io sono sempre lo stesso nano ma tutti in tanti nani insieme siamo diventati giganti e abbiamo conquistato grandi spazi tutti insieme ecco da quella piccola esperienza di Capannori che appunto poi in Italia è cresciuta sempre di più e che nel mondo cresce sempre di più e che aggrega sempre più comuni e anche capitali a livello mondiale ho avuto la sorpresa negli anni di conoscere appunto un grande attivista che è il presidente dell'istituto rifiuti zero brasiliano che è Rodrigo Sabatini che invito anche lui a portarci il suo saluto e da lì è nata appunto una collaborazione diciamo che poi ci ha visto invitati nel primo congresso internazionale di tutte le città rifiuti zero che vanno da San Francisco al Giappone all'Australia all'Italia e in questo primo forum mondiale che si è sviluppato proprio a Brasilia sotto la regia e l'orchestra di Rodrigo Sabatini abbiamo appunto con sorpresa registrato che c'era un enorme interesse del modello italiano di raccolta differenziata riciclo quello che Montalbetti diceva benissimo prima e che spesso magari appunto in Italia abbiamo poco la consapevolezza di quanto bene stiamo facendo su questo e su altri temi e donerei una parte diciamo del mio spazio di tempo al tuo saluto e quindi invito Rodrigo magari qua grazie per la presenza innanzitutto sto molto felice per stare qui e molto felice per Alessio che ha compartito con noi in Brasile il vostro modello penso in 2010 Brasile ha fatto una legge nazionale per i rifiuti dopo questo noi hanno ricevuto proposte di tedeschi di Svizzera e Svezzera e spagnoli tutti ma nessuno ha capito nostra peculiarità o nostra realtà penso che il modello italiano che è più concetto è più software più non è baseato in hardware non è baseato nella macchina è in processo è il modello che meglio si adapta al Brasile in questo momento perché più umano c'è più conformità con nostra realtà siamo un continente molto grande ma 80% di nostra città sono piccole meno di 20.000 abitanti penso che l'Italia c'è molto per contribuire come Brasile adesso e noi bisogna di questo sapere di questa esperienza e ho identificato che c'è un modello italiano per trattare di questo problema e è un modello molto buono manca voi sapete di questo e impensare o iniziare a vendere o come si sta facendo adesso grazie a Italia per tutto questo perché con il vostro modello noi iniziamo una rivoluzione in Brasile e i nostri numeri sono molto piccoli se comparati a te il tuo numero sono 3% solo del reciclo della media nazionale ma stiamo adesso sono molto molto felice molto confiante nella trasformazione basata in modello italiano grazie a tutti grazie grazie di cuore prendiamo coraggio dobbiamo prendere un po' di coraggio mi sembra di capire grazie di cuore prego ti lascio rientrare in tema con i tempi assolutamente è stato appunto un incontro interessantissimo emozionantissimo dove c'erano appunto governatori di metropoli brasiliane quindi c'è un interesse veramente crescente a cui hanno partecipato anche Raffaele Rossi Enzo Vergalito dall'Italia e abbiamo veramente rappresentato con grande interesse il nostro paese e interesse a fare sempre più sempre meglio e a unire le esperienze virtuose che sempre più stiamo facendo crescere e io appunto volevo velocemente anche rispetto a alcuni spunti che sono nati stamattina dai dibattiti su appunto anche fare chiarezza rispetto appunto a alcuni pregiudizi che magari 12 anni fa erano molto maggiori rispetto al concetto di rifiuti zero rispetto a quanti sono oggi perché rifiuti zero non significa non fare impianti questo senz'altro va chiarito anche c'è una necessità vitale dell'impiantistica per strutturare modelli di raccolta che tendano verso lo zero che vada a smaltimento ma che chiaramente porti sempre più a riciclo e cerchi di diminuire la produzione complessiva di scarti e appunto io non sto a entrare molto nei dettagli della presentazione che poi lascerò senz'altro agli atti voglio soltanto far emergere alcuni dati veloci oggi sono 272 sono oltre 6 milioni i cittadini coinvolti da politiche verso rifiuti zero e il movimento internazionale crescendo sempre di più e come dicevo prima appunto quello che si cerca di mandare verso zero tendenzialmente verso zero è appunto quello che va a smaltimento ma anche se siamo coscienti del fatto che ancora c'è da mandare avanti la ricerca e l'innovazione e la spinta verso l'eco-progettazione affinché si possa perché chiaramente ancora non tutto quello che si produce in termini di rifiuti non è tutto riciclabile ancora quindi un tema importante e qui mi collego anche al primo intervento del ruolo importantissimo e cruciale che avrà Ivan Stomevo nel rinnovo degli accordi Anciconai perché senz'altro un tema e mi collego anche con l'intervento di Montalbetti che sarà interessante credo nel rinnovo sarà prendere appunto anche le esperienze numerose positive e gli spunti interessantissimi che sono venuti dall'accordo che si è appena concluso ad esempio appunto secondo me c'è uno dei temi che non erano emersi finora nel dibattito stamani e oggi è la riciclabilità di ciò che non è imballaggio che il Comieco senz'altro ritira perché anche ciò che non è appunto che è rivista e non è imballaggio entra nel circuito Comieco virtuosamente non è così per altri consorzi che quindi magari ecco il nuovo accordo può spingere andare in quella direzione e cercare appunto di spingere sulla riciclabilità e anche perché appunto concludo con il sistema dei costi di cui si è parlato sia nella ricerca che anch'io confermo interessantissima dell'Università della Bocconi e che si collega a quello che anche è emerso la settimana scorsa dallo studio di Utili Italia ecco ci sono delle spese in più che i comuni e le aziende che fanno l'accolto differenziato sostengono per fare raccolte differenziate ma chiaramente questi costi si possono compensare con i minori oneri di smaltimento e i maggiori introiti da riciclo questa è l'esperienza che abbiamo concluso da poco che ho concluso Rietimast proseguirà che dal 20% di raccolta differenziata l'anno scorso presentavamo il 40% oggi presentiamo il 60% spero che l'anno prossimo possano giungere all'80% e che ci ha permesso appunto in poco in questo arco temporale di appunto diminuire enormemente i costi di smaltimento creare nuovi posti di lavoro e così come con la stessa tendenza che avevamo avuto qualche anno prima a Cabanuri cioè dove i minori oneri di smaltimento compensavano i maggiori oneri occupazionali e organizzazioni dei servizi ma il tema su cui voglio concludere è anche quello della prevenzione perché ricordiamocelo è il primo punto della normativa europea e spesso si può fare prevenzione unendo promozioni anche turistiche questo è un progetto che abbiamo fatto con Axel che coinvolge 20 attività ristorative del territorio quindi un'azienda che gestisce i rifiuti che normalmente era sempre vista come quella che si occupa dei problemi che invece declina la sua attività oltre che alla raccolta differenziata del riciclo anche alla prevenzione del rifiuto e alla promozione turistica del territorio quindi cercando di promuovere un eco marchio per la ristorazione che coinvolge i ristoranti che riducono i rifiuti e ora stiamo facendo la stessa cosa tra Sestiera e Bardonecchia anche sulla ricettività turistica quindi con gli alberghi e lanceremo a settembre questa nuova iniziativa attraverso appunto il riuso si può anche ridurre i rifiuti questo è quello che abbiamo partecipato all'inaugurazione pochi mesi fa dei Sestri Levante un nuovo centro del riuso realizzato dal comune che così come Capandoli in tanti altri sempre più centri d'Italia aiuta a ridurre la produzione dei rifiuti così come a unire vantaggi sociali e ambientali non indifferenti e sulla tarifazione anche puntuale stiamo lavorando in Val di Susa così come in tanti altri comuni è uno strumento davvero importante che si unisce a tutte le altre politiche per ridurre la quantità di quelli che vanno a smaltimento e mi collego a quello di stamattina che era stato l'intervento interessantissimo di Nespresso che appunto si poneva il tema della riciclabilità delle capsule in alluminio noi abbiamo lavorato su quelle di plastica studiando quante ancora vanno nei nostri rifiuti sempre meno indifferenziati a smaltimento coinvolgendo anche in questo caso le maggiori aziende italiane nel settore che ci hanno riconosciuto il problema e questa è l'ultima perché appunto se fino a ricollego a quello che dicevo all'inizio se 12 anni fa ci sentivamo magari un pochino nani ora sono nani sempre più riconosciuti a livello italiano e internazionale come appunto esempi virtuosi di quel pacchetto dell'economia circolare che sempre più vogliamo costruire grazie 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 l'idea di costruire intorno ad una gestione corretta ad una riduzione dei rifiuti dei brand di promozione turistica nel turismo già funziona applicarlo anche alla ristorazione è una buona idea tra l'altro abbiamo un paese che ha approvato anche una normativa nella scorsa legislatura proprio contro lo spreco di cibo a cui dare concreta adattuazione fa bene a tutti insomma fa bene all'economia in generale le relazioni umane le persone l'innovazione tecnologica messi alla prova di appunto sistemi di gestione dei rifiuti in diversi luoghi del paese adesso abbiamo un'altra finestra anche geografica perché volevo coinvolgere Walter Brescianicatti che è il direttore generale di Ersu siamo in Versilia sono sei comuni coinvolti che hanno caratteristiche diverse ci sono anche comuni che hanno una forte vocazione turistica e quindi si misurano anche con questo tema della stagionalità della produzione dei rifiuti prego Ersu è una società salutiamo la interrompo soltanto un attimo io approfitto salutiamo Carlo Montalbetti chiederei all'assessore Montanari di raggiungermi qui così approfittiamo di questo piccolo break mi perdoni se faccio un po' così giusto per i moderatori purtroppo prego così è qui vicino a noi prego prego Ersu è una realtà che è nata in realtà nel 1971 all'epoca gestiva un inceneritore quindi abbiamo abbandonato l'idea e il diciamo così il modello dell'incenerimento nell'86 sviluppando le raccolte differenziate e evolvendo le stesse verso il porta a porta verso la fine degli anni 2000 2008 sono sei comuni tra cui Pietrasanta Forte dei Marmi i più forse più noti ma abbiamo anche dei comuni montani come Seravezza Stazzema stiamo sulla provincia di Lucca e sulla provincia di Massacarrara col comune di Montignoso circa 100.000 persone in inverno quasi 200.000 d'estate perché chiaramente sia Forte dei Marmi che Pietrasanta hanno una altissima vocazione turistica il modello che abbiamo sviluppato è un porta a porta spinto quindi senza sì senza ma si fa questo adattandolo chiaramente alla situazione locale noi qui facciamo tre tipi di porta a porta un porta a porta per le utenze domestiche che chiaramente ha delle frequenze di raccolta che sono calcolate e stimate sulla produzione del rifiuto di un'utenza domestica abbiamo un porta a porta quindi completamente una mitologia diversa una struttura camion e attrezzature diverse quindi frequenze diverse per le utenze commerciali e addirittura anche un porta a porta per le utenze balneari noi abbiamo 200 220 circa stabilimenti balneari che se frequentate le spiagge sono un'industria sono un'industria e sono anche una grandissima componente di produzione di rifiuto complessivamente quest'anno nel 2017 abbiamo chiuso con qualche punto percentuale oltre il 70% di raccolta differenziata e con punte su Piedra Santa e Forte dei Marmi dell'80% 80% che in città balneari come sono le nostre non è così banale perché l'estate arrivare al mare insomma non è che tutti abbiamo la voglia di mettersi per fare raccolta differenziata quindi bisogna intensificare le raccolte per cercare di agevolare i soggiorni che non sono più come una volta ci stavano due mesi adesso stanno una settimana stanno tre giorni stanno quattro giorni quindi anche un modello di raccolta differenziata si deve adattare a queste frequenze diciamo così di soggiorno i risultati sono stati sempre molto incoraggianti e diciamo sì tante tante riflessioni che sono state fatte in particolare sullo studio che ha presentato il professore mi ci trovano effettivamente molto molto sopra perché il PIL effettivamente io vedevo i numeri media nazionale se non mi sbaglio è da 490 Forte del Marmi fa 1300 tanto per dare un numero tanto per dare un numero chiaramente Pietrasanta fa 800 e qualcosa sono numeri è chiaro che lì dentro ci vanno anche i rifiuti turistici perché chi viene va lì dentro quindi non è che ci sono bisogna numeri da approfondire però sono effettivamente sono molto legati sui costi sui costi Alessio ha fatto il paradigma è quello lì quindi più si investe nella raccolta meno si spende nell'indifferenziato nel Rui questo è il gioco forza il gioco vero è tenere a pari questi due componenti e ridurre la tariffa che uno ha portando a beneficio i ricavi delle raccolte differenziali e qui mi la disturbo subito perché chiaramente l'esperienza di Erzo è quella di una società che ha fatto fino adesso effettivamente molto affidamento sul sistema dei consorsi i sistemi dei consorsi sono stati una leva per far partire il sistema di raccolta differenziata ora effettivamente che il sistema è andato a regime e anche noi abbiamo a mano abbandonato e siamo entrati sul livello mercato due cose tre cose direi ancora porta a porta ok fantastico porta a porta va associato ai centri di raccolta il centro di raccolta è un elemento importantissimo per il porta a porta perché quando uno comincia a non ritrovare più il cassometto per la strada finalmente si rende conto che ha tutta una serie di rifiuti o meglio tutta una serie di oggetti che deve disparsi che non sa dove metterli nella casistica e porta a porta e quindi il centro di raccolta è un luogo dove si fa cultura dove si deve andare a portare i rifiuti dove si deve andare a parlare con le persone i centri di raccolta i nostri centri di raccolta sono dei luoghi che mi piace dire che bisogna andarci diciamo così in giacca e cravatta perché? perché sono dei luoghi in cui non si portano solo dei rifiuti si si specializza nel capire dove vanno i rifiuti si si finisce quella operosità che facciamo in casa secondo cosa importante insieme a porta a porta è indispensabile nella progettualità industriale avere degli impianti di valorizzazione è difficile fare porta a porta raccogliere se non hai un luogo dove puoi valorizzare i tuoi rifiuti quindi noi abbiamo subito con l'apertura del porta a porta aperto anche i nostri impianti di valorizzazione stoccaggio per le frazioni differenziate CC noi abbiamo scelto il modello CC Corepla per trattare il multimateriale leggero e chiaramente piattaforma per la carta e cartone questi sono elementi sono stati i ricavi di questo impianto di valorizzazione che hanno portato a frutto gli sforzi dei cittadini che ci hanno permesso poi negli anni dopo i primi 5 anni con la fine degli ammortamenti abbiamo potuto portare a abbassare la raccolta differenziata e i costi scusatemi della raccolta e quindi a fatturare un valore sempre più basso ai comuni della Tari ultimo elemento siamo stati oggetto non volendo ma ci ha fatto estremamente piacere abbiamo rilevato forse il più grande TMB che c'è in Toscana a Massarosa c'è un grossissimo impianto di trattamento meccanico biologico che aveva una sofferenza tremenda non ci arrivavano rifiuti non ci arrivavano rifiuti perché non ce n'era più l'indifferenziato non ce n'era più abbiamo preso un po' di rifiuti a Roma l'anno scorso siamo un po' attrezzati era veramente un grande problema perché c'era tanta 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 manovalanza quindi per tenere in piedi il ciclo la cosa era veramente difficile cosa ci siamo inventati ci siamo inventati il TMB sono sostanzialmente un residuato bellico nel nostro immaginario perché il TMB cosa facevano producevano un combustibile che andava in inceneritori io parlo da Toscana in inceneritori non ce n'è più quindi cosa ne fai di questo oggetto che produci poca roba veramente molto difficile lo devi andare a discarica no allora a quel punto lì che facciamo trattiamo un rifiuto indifferenziato che già povero di organico lo mandiamo in un impianto per poi lo mandare a discarica ci sembrava oggettivamente non una grande politica innovativa allora abbiamo richiesto la modifica dell'AIA e abbiamo pensato di andare a valorizzare anche quella parte di rifiuto quindi di materiali che ci sono nel rifiuto indifferenziato noi per esempio il rifiuto indifferenziato lo raccogliamo con il sacchino trasparente e all'interno dell'impianto c'era tantissimi tantissimi imballaggi in plastica tutti questi imballaggi in plastica invece di produrli e confezionarli per una termolarizzazione o peggio per andare a discarica abbiamo deciso di separarli e produrre delle frazioni merceologiche che non sono diciamo così prodotte dal cittadino sono di secondo di secondo livello sono prodotte dall'impianto ma che sono diciamo così sempre utilizzabili sul mercato delle materie prime e seconde quindi il nostro sforzo in questo momento è quello di andare a ipervalorizzare quel materiale che entra lì dentro e vi dico la verità pur avendo una raccolta differenziata al 70% di quel materiale ancora valorizzabile lì dentro ce n'è ancora tanto o di grandezza diciamo del 20% non è che ci siano però un 20% di questo materiale che è composto prevalentemente da imballaggi in plastica cartone imballaggi in cartone grossi che hanno difficoltà sempre ad essere conferiti in porta a porta e legno sono diciamo così stanno venendo fuori da questo ciclo da questo ciclo quindi dopo aver ottimizzato il sistema di raccolta e arrivando all'80% di raccolta differenziata ci siamo dedicati anche nella gestione di questo nuovo impianto all'upgrading della valorizzazione del rifiuto indifferenziale grazie bene grazie per questa testimonianza e accanto a me l'assessore Montanari non la coinvolgo subito però quando ha sentito insieme a me che il TMB archeologia ha avuto un sospiro lei ha avuto vero un sospiro arriverà allora andiamo avanti apriamo un'altra finestra in un altro territorio l'ho chiamato subito qui il direttore generale di Cosmari Giuseppe Giampaoli siamo nelle Marche 57 comuni se non ricordo male consorziati una storia importante uno dei primi consorsi che nasce per sviluppare si è spento il monitor non so se ci potete aiutare dietro funziona vabbè si è spento solo davanti a noi vabbè nel frattempo ci giriamo ce lo riaccendo che già questa mattina ci ha creato un piccolo problema ma intanto ha sentito e ascoltato gli interventi che l'hanno preceduta anche a lei la prima domanda prima di presentare la sua relazione che effetto le ha fatte intanto è stato già elogiato per essere stato il primo a rispondere ad avere ottime performance anche se non ricordo male nella forza non la parte della frazione organica come consorzio ma che impressioni ne ha ricavato dalle cose che ha ascoltato finora nelle storie che ha ascoltato ci si è ritrovato ha trovato spunti criticità da risolvere sicuramente sì noi questa mattinata pure abbiamo ragionato molto sulla sull'impiantistica e anche sulla raccolta differenziata la raccolta differenziata ormai credo che dopo tanti anni che battiamo questo chiodo io ricordo alcuni anni molti anni fa in cui si diceva ancora raccolta porta a porta i costi poi ricordo in un'occasione come questa dimostrammo e oggi abbiamo la dimostrazione che nel loro complesso i costi della raccolta differenziata non sono affatto peggiorativi rispetto ai costi degli altri sistemi di raccolta anzi consellando l'insieme delle filiera la raccolta differenziata abbiamo dimostrato che è un fatto positivo anche in termini economici però dicevamo stamattina l'impiantistica è essenziale mi pare che Francesco Ferrante diceva rifiuti zero non significa che non abbiamo più rifiuti tutt'altro bisogna fare impianti rifiuti zero significa una filosofia verso cui bisogna andare ma assolutamente senza impianti i rifiuti non saranno mai zero e allora la problematica di costruire impianti dove servono ma anche soprattutto quella di come dire generare delle politiche di riciclo perché sentivo adesso il direttore è pur vero un'altra cosa quando chi ha impianti sa che sia sul TMB dove c'è una grossa frazione che per lo più finisce in discarico finisce in incenditori ovvero comunque non è riciclabile sia nelle raccolte differenziate porta a porta c'è sempre una percentuale che va dal 10 al 12 al 15% di materiali soprattutto plastici non riciclabili e allora piuttosto che pensare all'articolo 35 come è stato fatto sciagolatamente qualche anno fa di pensare agli incenditori ad ogni regione forse era il caso di studiare meglio e lavorare magari con le università su bandire delle plastiche non riciclabili perché una cosa è intercettare con la raccolta differenziata evitare quel mare di plastica o non utilizzare le plastiche una cosa è avere comunque plastiche e poi non sapremo che farle perché se non riusciamo a riciclare io ricordo a tutti noi siamo un paese di mare abbiamo tre il famoso problema delle cassette di plastica dei mercatittici abbiamo per anni e stiamo lavorando sulle cassette e sono è tanta roba è tanta roba è tanta roba che viene volta per volta abbandonata con tutto quello che significa in termini anche di come dire di prodotto non riciclabile si è cercato di studiare si è fatto uno sforzo per avere materiali riciclabili poi magari per due euro in più su una cassetta che ne vale 200 non siamo riusciti ad imporlo queste sono invece le scelte da fare sono scelte che poi perché questa nel momento poteva portare due euro in più di costo del pescato ma in realtà poi significa aver risparmiato molto a valle ecco questo per dire per rispondere alla sua domanda c'è probabilmente tanto da fare ma a livello normativo di ricerca per avere dell'impiantistica che riesce effettivamente a recuperare il massimo perché oggi i consorsi funzionano bene i consorsi nazionali per esempio però con il legno c'è un problema noi abbiamo difficoltà nel collocare il legno e con il legno bisognerà fare un discorso con il vetro abbiamo qualche problema per cui abbiamo dei momenti di alti consumi e di ritiri e cosa che non avviene né con il Correpla nei consorsi maggiori che stanno lavorando bene quindi bisogna fare anche qui un distingo l'ultimo aspetto è quello che ce lo dobbiamo dire anche questo il sistema italiano ha dimostrato una cosa che il pubblico quando vuole funziona stamattina oggi la Bocconi ci ha fatto una interessante come dire risamina dei costi e ha visto che i consorsi di comuni se gestiti bene riescono ad essere come dire a privilegiare sia in termini economici che in termini di tecnologia credo che sia importante in una paese in cui dice tutto va male il pubblico è da buttare via ci sono gli assenteisti c'è il furbetto del cartellino probabilmente c'è una parte d'Italia che funziona è una parte d'Italia grazie che va a raccontare e che dobbiamo avere anche un po' più coraggio di raccontare io chiederei ai nostri relatori di accomodarsi così facciamo questa staffetta lei resti qui assessore non si muove e chiamerei qui accanto a me per andare alla seconda parte del nostro ragionamento Federico Poli che è il direttore generale della Filippa Alessandro Battaglino presidente di Barricalla il generale Giuseppe Vadalà prego accomodatevi qui vicino a me e Sergio Cristofanelli del ministero dell'ambiente prego accomodatevi nella nostra scaletta chiudiamo questa prima parte legata alla presentazione prego prego accomodatevi prego chiudiamo questa prima parte del nostro incontro pomeridiano che è dedicata ai sistemi di gestione poi come avrà capito dai relatori successivi si affronterà l'ultimo anello la gestione delle discariche perché abbiamo capito che servono comunque impianti finali di smaltimento con una certa logica il generale Valerà toccherà spiegarci cosa accade e cosa si può fare quando il sistema non funziona le discariche illegali e poi con il dottor Cristofanelli affronteremo invece un ragionamento a conclusione di prospettiva allora assessore Montanari nel novembre dello scorso anno quindi il 14 novembre scorso insieme al sindaco di Roma è stato annunciato il nuovo modello di gestione della raccolta differenziata nella capitale che è tutto orientato sul porta a porta sui chip sui contenitori e mezzi intelligenti sulla tariffazione puntuale da estendere già sperimentato ma da estendere a tutta la città entro il 2019 sa nelle slide presentate prima dalla Bocconi Roma ha qualche difficoltà ora da questo punto di vista in termini di costi di efficacia ma non ci interessa parlare del passato le difficoltà sono note ecco a che punto siamo rispetto a questo cronoprogramma che vi siete dati che dovrebbe portare appunto Roma ad essere una città tutta quanta porta a porta bene innanzitutto grazie per l'invito poi vorrei ricordare come premessa questo che naturalmente il nostro grande obiettivo è proprio quello di modificare l'orizzonte all'interno del quale noi stiamo agendo nella città di Roma passando appunto dal modello di economia lineare che crea valore perso al modello di economia circolare invece che crea valore questo farlo in una città grande come Roma è certamente un impegno che noi definiamo ciclopico e abbiamo però approvato subito la delibera 47 che si pone tre obiettivi fondamentali che sono e l'avete già ricordato anche voi come primo punto la riduzione di almeno 200.000 tonnellate di produzione di rifiuti entro il 2021 e questo è un obiettivo fondamentale perché ancora oggi si producono troppi rifiuti noi abbiamo individuato 12 azioni che misureremo anche in modo rigoroso e scientifico per capire qual è man mano che le azioni vengono attivate il vero contributo alla riduzione dei rifiuti di queste azioni stiamo partendo con queste azioni di riduzione e siamo anche molto convinti che questa prospettiva questa ottica che è quella anche appunto che orienta tutta la normativa anche europea sia fondamentale questo è il primo punto il secondo punto è il potenziamento e lo sviluppo e la razionalizzazione e l'ottimizzazione della raccolta differenziata appunto esistente perché Roma già aveva in parte il porta a porta allora noi stiamo facendo questo stiamo cercando di estendere il porta a porta a tutta la città ovviamente utilizzando i modelli oggi più innovativi abbiamo stilato due accordi tra l'altro uno col Comieco e uno col Conai che ci supporta appunto in questo percorso e abbiamo iniziato appunto questo processo innanzitutto di semplificazione e di ottimizzazione di razionalizzazione tutto questo si inserisce anche in una visione più complessiva dell'azienda l'AMA che stiamo organizzando appunto con le AMA di municipio proprio perché voi sapete che le dimensioni di Roma sono il tema centrale dell'organizzazione anche poi della gestione dei rifiuti cioè Roma è come 8-9 grandi città solo il municipio 9 io lo faccio sempre come esempio ma per essere più chiare è grande come Milano quindi quando noi stiamo introducendo nel decimo municipio che è quello appunto di Ostia Ciglia eccetera nel sesto municipio che è quello di Torbellamonaca il nuovo progetto che stiamo mettendo in campo naturalmente noi abbiamo l'obiettivo di fare in tempi molto rapidi quel che normalmente nelle città ha bisogno anche di un tempo un po' più lungo però Roma non può più aspettare ed è per questa ragione che abbiamo introdotto quindi questi elementi innovativi che sono la semplificazione del calendario sono l'organizzazione del sistema di raccolta attraverso le RFID e poi naturalmente il fatto di poter alla fine applicare quando saremo a regime su tutto la tarifazione puntuale i primi test che abbiamo fatto che adesso non sono più test ma sono un avanzamento del progetto con degli step che abbiamo indicato in modo molto chiaro fino appunto alla fine dell'anno ci consentiranno di far raggiungere a 500.000 abitanti il sistema nuovo appunto di raccolta con questa semplificazione passiamo sostanzialmente da nove passaggi che erano quelli che rendevano anche inefficiente il sistema di raccolta il bisogno di mezzi e tutto quello che appunto era organizzato con un sistema che confidiamo possa dare in termini anche di valutazione oggettive di risultati positivi e devo dire che li ha già dati appunto nella sperimentazione test che abbiamo fatto al ghetto come già detto è stata una realtà molto piccola quindi però i tre risultati metodologicamente parlando sono già significativi perché abbiamo un miglioramento della qualità merceologica del rifiuto abbiamo un miglioramento naturalmente delle condizioni di decoro e anche una capacità di relazionarsi appunto al territorio molto più efficiente questo lo stiamo e siamo partiti poi nel decimo municipio ogni 15 giorni avanziamo con circa 10-20 mila nuove utenze che appunto si spostano o dal vecchio modello o dal modello che non esisteva che era quindi ancora col sistema dei cassonetti e anche in questo caso devo dire che nel decimo municipio i primi risultati sono stati straordinari intorno al 93% si stanno consolidando nel senso che il modello che poi appunto è un modello che è applicato anche in tante altre città italiane dà sistematicamente questo buono risultato con anche appunto questi tre risultati in termini di efficienza quindi naturalmente noi abbiamo impostato un cronoprogramma che riguarda tutta la città e quindi entro il 2021 noi intendiamo appunto estendere a tutta la città questo modello tenendo anche presente però che non tutto deve essere fatto col tradizionale porta a porta attenzione molto alle tipologie abitative alle situazioni sociali perché noi andiamo in realtà in territori anche con gravi problemi anche sociali di varia natura e quindi anche in questo caso occorre costruire con l'utenza un rapporto particolare per cui abbiamo pensato nel nostro modello non solo di utilizzare appunto il tradizionale porta a porta ma anche le domus ecologiche a Roma le abbiamo chiamate così che naturalmente sono un semplice modo appunto di conferire nei grandi condomini sempre in modo differenziato e sempre con una capacità di comunque tarifare in modo specifico appunto quelli che sono e verificare il numero di conferimenti poi ancora i cassonetti intelligenti questi li metteremo ad esempio in una parte del centro storico della parte storica appunto di Ostia e su questo stiamo avanzando quindi noi ogni 15 giorni valutiamo quello che stiamo facendo lo misuriamo con rigore scientifico io come chi mi conosce lo sa insomma io cerco di avere un approccio molto rigoroso molto scientifico a questo percorso che stiamo facendo che è la delibera 47 e naturalmente perché? perché la realtà può sempre presentare degli elementi anche che vanno valutati anche criticamente quindi naturalmente noi cerchiamo di adeguarci appunto alla realtà naturalmente col supporto dei consorzi e col supporto appunto anche in questo caso dell'osservatorio rifiuti zero che ci valuta e ci misura proprio e calcola esattamente quali sono appunto l'efficacia delle nostre azioni e come possiamo procedere e il terzo punto e così chiudo del nostro del nostro piano prevede naturalmente anche la realizzazione dell'impiantistica allora un'impiantistica noi abbiamo consegnato in regione che sono attualmente sottoposte a via due progetti che riguardano naturalmente il trattamento dell'organico perché se si procederà appunto in modo molto forte con la raccolta porta a porta è evidente che la quantità di questa frazione merceologica sarà significativa e quindi occorrerà anche in questo modo dare una risposta in termini di autosufficienza ma non solo l'idea è quella di intercettare le filiere quindi di riuscire anche a sviluppare nell'ottica di una davvero new green economy tutte le filiere che sono importanti le filiere dei materassi le filiere dei RAE ma anche ad esempio prima si parlava di cassette noi stiamo lavorando molto su questo tema perché Roma ogni tanto è invasa è soprattutto vicino ai supermercati e ai mercati di queste montagne appunto di cassette che purtroppo vanno a finire nei TMB vanno a vanno allora l'idea di incominciare davvero a portare una logica diversa con le cassette riutilizzabili e riciclabili che oggi esistono e sono sul mercato per tutte anche le diverse tipologie alimentari anche questa è una strada parte adesso un progetto su 15 mercati è un progetto tra l'altro realizzato con Roma solidale che si autosostiene economicamente e quindi le persone che noi attiveremo che sono 30 persone che saranno appunto assunte che sono assunte adesso in questa fase ci consentiranno appunto di fare attività di recupero appunto dello spreco alimentare e di intervenire proprio a monte su questo tema della riduzione nei mercati e sviluppando questa nuova logica che vogliamo portare poi infine c'è il tema molto importante di quello che resta da 100 kg se noi il nostro obiettivo è arrivare a raccogliere 70 kg in modo differenziato ne restano sempre 30 e allora come si trattano questi 30 e allora lì si tratta di capire qual è la migliore appunto tecnologia per poter trattare quei 30 io sono molto d'accordo con quello che diceva appunto prima quando parlava appunto di quelle che noi chiamiamo le fabbriche dei materiali cioè se noi ancora riusciamo andare a intercettare le frazioni legnocellulosiche le plastiche di pregio e non di pregio perché io lo vedo anch'io quando vado nei TMB che salta fuori di tutto magari attraverso anche semplicemente metodologie di tipo balistico di tipo ottico che possano aiutare comunque a selezionare quindi l'idea di sviluppo delle fabbriche dei materiali può essere un'altra grande opportunità di trattamento e poi naturalmente occorre anche in questo caso essere molto attenti alle tecnologie perché io credo che le tecnologie siano in grado anche di rispondere da un lato all'esigenza dell'economia circolare che è sempre più forte soprattutto per una città come Roma che è anche una città di mare io lo vorrei ricordare perché dove il problema delle plastiche poi lo si percepisce nelle aree naturali protette dove troviamo appunto questa plastica che va a contaminare appunto i nostri mari quindi a questo punto scegliere una strada della sostenibilità è essenziale una sostenibilità che si può rivelare anche economicamente fondata e che può dare anche forse dei risultati in termini di occupazione e soprattutto credo che debba dare delle risposte in termini di sostenibilità e quindi questo è un po' il percorso che stiamo facendo un percorso che ovviamente vuole essere anche condiviso e lo stiamo facendo con i cittadini con le associazioni quindi con grande piacere appunto ci confrontiamo e siamo lieti di confrontarci con coloro che potranno dare anche dei suggerimenti importanti per migliorare sempre di più e lavorare per il bene comune grazie grazie assessore Montanari prego dopo ci sarà spazio per interventi dopo ci sarà spazio per interventi grazie dopo ci sarà spazio per interventi ci sarà spazio per interventi dopo se siamo bravi grazie davvero di cuore mi lasci dire da cittadino romano che io faccio disperatamente non vedo l'ora che quel pallino rosso lei non sa che oggi identifica Roma nel diagramma che ci ha fatto della Bocconi diventi verde più verde di quello di Milano ecco l'ho detta quindi mi è sgorgata dal cuore lo voglio vedere proprio un grande verde al prossimo incontro ci misureremo con i numeri con i concittadini con i nazionali milanesi allora una parte del ragionamento che ha fatto l'assessore Montanari ora ha a che fare va bene grazie no ma può restare qua sì sì no no tra quando deve andare va ma può restare qui accanto a noi ha a che fare con l'impiantistica tutti gli interventi che abbiamo ascoltato finora potrebbero apparentemente togliere lavoro alle persone che ascolteremo adesso per la tipologia di impianti che gestiscono mi riferisco in particolare a Federico Poli direttore generale della Filippa e accanto a lui c'è Alessandro Battaglino cominciamo da Federico Poli la Filippa siamo in un impianto che è una discarica quindi un impianto di smaltimento finale ecco ma come si ripensano o come si possono riprogettare e che caratteristiche possono avere anche gli impianti finali di smaltimento in un'economia circolare bene grazie buonasera innanzitutto diciamo è solo apparente questa contraddizione questo contrasto tra il ruolo della discarica e il mondo dell'economia circolare dico apparente se ovviamente ci mettiamo in una visione nuova quale è quella che l'economia circolare ci pone e che ci costringe a interrogarci sul ruolo delle discariche la nostra esperienza è un'esperienza che nasce ormai una decina di anni fa di un impianto che nasce integralmente diciamo progettato nell'alveo progettato sia in senso tecnico che poi in senso gestionale nell'alveo diciamo della direttiva di scariche della 31 del 1999 e che si pone proprio come un impianto che vuole risolvere i problemi di quei rifiuti residuali che altrimenti non riescono a essere recuperati e in questa esperienza noi abbiamo trovato degli elementi di sostenibilità per questo tipo di attività perché più l'economia circolare avanza più i sistemi di raccolta differenziata si diciamo raffinano diventano più efficienti così come più diventano efficienti i sistemi di trattamento dei rifiuti gli scarti che vengono prodotti volgono verso condizioni di inerzia chimica e biologica tale per cui il collocamento in discarica permette di costruire discariche sempre più sicure a breve e basso impatto ambientale del resto il pacchetto dell'economia circolare interviene su quattro normative quella sui rifiuti quella sui imballaggi quella sui RAE ma interviene anche su quella delle discariche e questo forse dimostra il fatto che è un tema che sta a cuore al legislatore ma che deve stare a cuore al sistema in quanto in assenza della possibilità di andare a collocare quegli scarti che inevitabilmente non possono essere né riciclati né recuperati in assenza di impianti di questo tipo si blocca il ciclo a monte e quindi anche gli impianti che svolgono le attività diciamo di livello più alto nella gerarchia di gestione dei rifiuti cioè il riciclo e il recupero non riescono poi a esprimere le loro potenzialità ricordo brevemente il fatto che oggi quando parliamo di discariche non parliamo di discariche abusive ovviamente quello lì è un tema con cui non vogliamo neanche confrontarci ma non parliamo neanche diciamo di discariche nate nell'alveo di una normativa che era diciamo così un po' approssimata come quella della delibera del 1984 ormai quelle norme sono state totalmente superate integrate implementate appunto in Italia col decreto legislativo 36 che rappresenta una BAT cioè una delle migliori tecnologie applicabili per gestire una discarica quindi l'applicazione della norma garantisce la sicurezza delle delle attività che vengono svolte in questi tipi di di impianti noi abbiamo voluto progettare un qualcosa che traguardasse poi degli orizzonti diciamo di futuro proietteremo poi a breve un piccolo filmato che rappresenta un po' meglio la nostra attività ma prima di questo qual è il concept della filosofia che sta dietro alla nostra iniziativa era quella di partire da un sito che era stato compromesso da attività di cava se parliamo di una cava di argilla quindi avevamo un sedime assolutamente sicuro dal punto di vista geologico che oggi viene ricolmato ripristinato morfologicamente con questa attività cercando di ottenere un risultato finale tale per cui quest'area possa essere ripristinata e riutilizzata in futuro quindi tutto quello che facciamo noi oggi lo pensiamo anche per il futuro abbiamo quindi voluto costruire un impianto con livelli di planalizzazione dieci volte più prudenti più sicuri di quelli di legge il sistema di raccolta del percolato è stato sovradimensionato il percolato è stato collettato direttamente in fognatura tutta una serie di infrastrutture che garantiscono degli elementi di sicurezza e garantiscono che l'impianto quando raggiunto alla fine della sua vita possa essere rifruito per altre attività in questo nel fatto quindi di pensare alla discarica non solo come un posto di deposito di rifiuti fino a se stesso ma come una destinazione d'uso di un futuro e quindi di un nuovo luogo da vivere sta proprio diciamo è la novità la novità che pone la discarica come un elemento sostenibile che permette di recuperare e utilizzare aree che altrimenti sarebbero rimaste in stato di degrado ma per fare questo il ruolo fondamentale lo esercita tutto ciò che sta a mondo della discarica cioè l'economia circolare che garantisce che solo certi rifiuti con certe caratteristiche possono essere collocati in discarica io pregrei la regia di mandare il filmato così concludo il mio intervento di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene grazie grazie anche per questo contributo video vedendo gli zero assoluto alla Filippa mi ricordare che da ieri è online sta circolando e sta già ricevendo i primi contributi di artisti la canzone circolare che Elio e Restolietese hanno regalato all'Ega Ambiente che ha avuto come prima versione quella riadattata dal nostro presidente Stefano Ciafani e dal direttore generale Giorgio Zampetti perché noi non ci neghiamo nulla diciamo noi ce la mettiamo proprio tutta esatto quello che chiediamo agli altri allora si è discusso da questa mattina di un tema che è quello dell'accettabilità sociale degli impianti e qui vorrei coinvolgere Alessandro Battaglino in questa riflessione presidente di Baricala perché è un problema ancora oggi ecco come si riesce a cambiare nella sostanza percezione orientamento tra i cittadini di fronte dalla necessità di un impianto Buonasera a tutti innanzitutto beh diciamo Baricala quest'anno compie 30 anni quindi una storia importante ha visto una quantità di rifiuti smaltiti nel suo impianto di Collegno davvero impressionante perché parliamo più di un milione e trecentomila cubi di rifiuti che sono stati smaltiti fino ad oggi e ci stiamo apprestando ad aprire un quinto lotto che prevede uno smaltimento di ulteriori cinquecentomila metri cubi di rifiuti tutto questo in una zona molto antropizzata perché comunque parliamo di un comune quello di Collegno che è il terzo comune della provincia di Torino ben più grande di altri capoluoghi di provincia del Piemonte per numero di abitanti ed è una storia che insomma vale abbastanza la pena raccontare perché è iniziata anche Baricala come la Filippa col suo primo lotto da centomila metri cubi su una cava che era stata utilizzata per costruire e per scavare il materiale della tangenziera di Torino poi abbandonata recuperata appunto ambientalmente con questo primo lotto questo primo lotto poi hanno visti ben altri quattro e adesso appunto l'anno scorso iniziare i lavori per il quinto perché tutto questo è stato fatto non con facilità ma con condivisione con la cittadinanza innanzitutto perché c'è stato un grande processo di comunicazione che continua tuttora per cui è stato fatto comprendere toccare con mano spiegare che cosa si sarebbe andati a fare basta un dato io il 5 di giugno di ogni anno apriamo le porte a Baricala proprio per permettere a tutta la cittadinanza di venire a vedere che cos'è Baricala perché nonostante questo sia un sito ben visibile circolano ancora comunque alcuni miti su quello che viene conferito nelle nostre vasche e appunto poter aprire soprattutto il potere anche per esempio mostrare come si lavora nella costruzione di un lotto tipo questo appunto il quinto fa sicuramente da sicuramente tranquillità alla cittadinanza e poi l'altro fatto appunto sicuramente importante è quello dei controlli nel senso che ci sono una serie di controlli che vengono fatti e che vengono appunto comunicati sulla qualità dell'aria dell'acqua dell'atmosfera che vengono fatti da noi direttamente o dagli organi competenti che toccando tutto quello che si può toccare in 30 anni di storia non hanno mai prodotto nessun incidente nessun dubbio nessun problema e quindi anche questo è sicuramente un fattore importante noi abbiamo poi anche adottato alcune misure molto comunicative per far toccare anche con mano e per raccontare quello che facciamo a barricalla nel senso che in questo sito in cui entrano rifiuti pericolosi nella quantità in cui abbiamo detto prima abbiamo per esempio delle arnie e produciamo miele con queste api e noi sappiamo benissimo che in natura l'ape è l'elemento più debole più delicato e quindi nel momento in cui noi andiamo a paragonare il miele che viene bottinato in barricalla con quello che è bottinato nelle zone in zone bianche della provincia di Torino ecco che penso che dimostriamo comunque cosa e come presidiamo il nostro territorio al di là di tutti i controlli che facciamo sull'acqua ovviamente sul terreno per evitare qualunque tipo di problema qua in questo video i cittadini che sono venuti nell'ultimo porto aperto per la giornata mondiale dell'ambiente hanno avuto davvero la fortuna di vedere come si costruisce una discarica quindi qual è l'attenzione che noi poniamo ovviamente nel rispetto delle norme di legge se non di più per appunto costruire per costruire una vasca una vasca del nostro impianto e quindi capire come appunto qual è l'attenzione e quindi qual è la sicurezza che diamo si può essere trasparenti la trasparenza è un requisito fondamentale quando si è in grado di mostrare coerenza tra quello che si dichiara e quello che si fa lei ha fatto che non ci si limita all'obbligo di legge in qualche modo ecco ma come vi immaginate il futuro delle discariche nell'economia circolare avendo ascoltato anche ecco che orizzonte vedete? sicuramente io credo che le discariche dovranno soprattutto quelle per rifiuti pericolosi come quelle che trattiamo noi per rifiuti speciali pericolosi noi dovranno continuare ad esistere perché ci sono tipologie di rifiuti che non possiamo far finta che non ci siano e che non ci saranno io mi riferisco in primis ai rifiuti derivanti dalla produzione industriale noi nonostante tutti gli inviti che ci vengono fatti continuiamo a vivere e a consumare come praticamente non ci fosse domani noi pensiamo minimamente nei nostri modelli di consumo a quelli che possono essere gli impatti di questi modelli sulle prossime generazioni addirittura anche sulla nostra e quindi questo questa produzione industriale è sicuramente degli scarti che devono essere trattati in modo opportuno quindi questo è un primo motivo per cui secondo me le discariche dovranno continuare ad esistere il secondo motivo è sicuramente quello che c'è stato un periodo della nostra storia in cui c'è stato un far west dal punto di vista ambientale negli anni del boom per cui ci sono dei territori oggi che devono essere bonificati e per bonificarli dobbiamo comunque poi immaginarci anche dei luoghi in cui conferire quello che è stato bonificato perché non possiamo immaginare che questi territori questi terreni possano sparire da un momento all'altro e il terzo motivo per cui io ritengo che debbano continuare a esistere le discariche al di là di quello che andrò poi a dire su quello che potrà essere la discarica del futuro è sicuramente che ci sono delle tipologie di rifiuti che oggi non hanno altra destinazione pratica e che saranno trattati in quantità così importanti e consistenti che non si potrà pensare di fare a meno della discarica penso all'amianto oggi noi ci stiamo sforzando di capire quali possono essere soluzioni diverse nel trattamento dell'amianto però ad oggi diciamo che le quantità che sono previste per lo smaltimento non prevedono soluzioni tanto diverse da quelle della discarica io guardo il piano rifiuti della regione Piemonte in cui appunto si prevede due milioni di metri cubi di amianto da bonificare ecco bisogna poi immaginare dei luoghi in cui questo amianto possa essere conferito o possa essere trattato in maniera sicura probabilmente non c'è una sola soluzione ce ne sono diverse ma una parte sicuramente dovrà comunque andare in discarica la discarica del futuro secondo me dovrà essere affiancata da un impianto sicuramente di trattamento che possa permettere effettivamente di utilizzare e di riutilizzare tutto il materiale che oggi viene invece conferito ma nello stesso tempo credo anche che se necessaria una riflessione su quello che oggi viene considerato il materiale da conferire in una discarica tipo la nostra tipo appunto barricalla quindi con rifiuti pericolosi perché probabilmente ci sono una tipologia di rifiuti che oggi potrebbe avere un trattamento un utilizzo diverso e che invece oggi viene conferito a Tukur in un nostro sito occupando degli spazi che probabilmente potrebbero essere destinati ad altri scopi però ecco io credo che oggi un impianto del futuro noi stiamo ragionando stiamo cominciando a immaginarcelo questo futuro e stiamo anche immaginandocelo cercando di capire come anche i rifiuti che oggi arrivano a barricalla possono essere eventualmente trattati in maniera diversa e credo che affiancare un impianto di trattamento che ancora dal quale si possa ricavare qualcosa credo che possa essere anche per i rifiuti speciali pericolosi e non una soluzione grazie grazie di cuore allora quando ha accennato il presidente di barricalla all'utilizzo delle discariche insomma ben gestite per farci finire i rifiuti i terreni che vengono dalla reattività di bonifica prima ho sentito il sospiro dell'assessore Montanari sui DMB archeologia poi ho sentito il sospiro del generale Vatala grazie per essere qui abbiamo detto la parte che sfugge abbiamo parlato tutt'oggi della parte positiva virtuosa dell'economia circolare il generale Vatala è commissario straordinario di governo per la bonifica delle discariche abusive per le quali vi ricordo che siamo oggetto di sanzione da parte dell'Unione Europea qual è la situazione oggi e che come che spiegazioni si è dato il generale Vatala del fiorire di queste discariche abusive nel nostro paese grazie grazie Enrico grazie al presidente Cefani grazie alle Cambiente intanto un saluto a tutti i partecipanti diciamo che rispetto a tutte le belle cose per fortuna non ultimo insomma delle discariche sicuramente positive che non ci sono ma che sappiamo questa delle discariche abusive oggetto di sanzione UE di cui quindi dell'Unione Europea su cui stiamo pagando una sanzione ancora molto elevata però stiamo vedendo di chiuderla insieme al Ministro dell'Ambiente al governo che ha nominato il 24 mese scorso il commissario e insieme alla task force dell'Arba dei Carabinieri ci stiamo occupando diciamo è tutto quello che ovviamente non si deve più fare è tutto quello che comunque non si fa perché devo dire che quello che succedeva negli anni 60 se tanto ormai nessun sindaco si sognerebbe di aprire una discarica e di mettere un timbro buttando i rifiuti proprio dalla collina nei torrenti e lasciandoli là senza nessun altro perché poi ovviamente succedono i disastri che sappiamo o nessuno si sognerebbe più di ammonticchiare come i sei siti che dobbiamo bonificare attorno a Marghera o questo che poi alla fine vi farò vedere un po' di foto che sono le cose più chiare ad Augusta di ammonticchiare la cenere di Pirite che nei 10, 20, 30 anni è stata ammonticchiata era un deposito temporaneo ed oggi è diventato un deposito definitivo su cui poi è stato costruito il campo di Augusta e il campo di calcio ma poi ecco come questa fotomostra è stato chiuso perché c'è la Pirite e il ferro che viene fuori tutto questo succedeva e quindi brevemente riporto a quegli anni là niente meno al DPR 915 insomma l'82 lo ricordo bene la prima normativa un monitoraggio fatto allora dal corpo forestale dell'ossato oggi dai carabinieri è stata continuata questa azione ha portato al fatto che nel 1986 quindi primo monitoraggio 86, 96, 2002, 2008, 2016 quindi 6 monitoraggi ma il primo 86 si vedeva si verificò che l'unione o l'interconnessione tra cavo e discariche era una interconnessione che a volte non dico sempre ma a volte era disastrosa perché evidentemente già da allora si è visto e si vide che le cave a volte venivano usate per scaricare i rifiuti allora fu monitorato in questo monitoraggio che è stato fatto 5.000 discariche ma dove c'era di tutto lo dico 5.000 discariche dove c'erano gli abbandoni dove c'erano le discariche regolari che poi sono stati colpite e le discariche anche regolari per cui comunque da questi primi monitoraggi si arrivò la faccio breve a una prima infrazione a cui l'Italia fu colpita nel 2003 e 2007 la prima sentenza 2014 la seconda sentenza dove 200 siti di discariche abusive 7 regioni e 27 province e erano è stata colpita questa tanzione che abbiamo iniziato a pagare nel 2 dicembre 2014 42 milioni ogni 6 mesi perché l'Italia ovviamente non smaltiva i rifiuti in discariche come quelle che prima ci è stato detto ma li smaltiva in discariche non aveva nessun crispo nessuna condizione per essere discariche quindi si era messo un bollino di legalità su siti che effettivamente non lo erano assolutamente da queste 200 discariche il ministro dell'ambiente con tutta un'azione di circa 120 siti sono stati dal 2014 fino alla mia nomina al 2017 sono stati bonificati poi nel 2017 questa nomina con gli 80 siti che sono quelli un po' più difficoltosi un po' più difficili che stiamo cercando di chiudere ogni discarica vale 200 mila euro quindi ogni discarica che bonifichiamo la sanzione scala di 200 mila euro quella pericolosa di 400 mila euro ovviamente dobbiamo fare più velocemente possibile perché da 42 milioni del 2 dicembre oggi l'ultima sanzione che abbiamo pagato il 2 giugno del 2014 sono 14 milioni che è ancora elevata e ogni 6 mesi stiamo lavorando in una corsa contro il tempo per cercare di bonificare o mettere in sicurezza perché c'è stato prima accennato che la discarica insomma non è per forza una bestemmia sono fatte bene ovviamente in un senso e per cercare di fare velocemente ma contemporaneamente far bene cioè i rifiuti e lo dico anzi lo premetto che sono erano allora che venivano smaltiti perché ripeto i sindaci non sapevano come fare erano i rifiuti soli urbani ma i rifiuti soli urbani degli anni 60 e 70 probabilmente anzi sicuramente erano un po' diversi da quelli di oggi quindi dobbiamo capire se intanto le tre condizioni rispetto alle tre condizioni che c'è in posto l'Unione Europea c'è in posto per fortuna ovviamente perché così restituiamo i territori cittadini uno che non siano più usati come discarichi quindi vi erano recintati e il secondo è che se c'erano i rifiuti pericolosi devono essere tirati fuori e portati via il terzo che non ci deve essere inquinamento per la salute delle persone e la salubilità dell'ambiente queste sono le tre condizioni che andiamo a rispettare è ovvio che abbiamo ereditato una situazione dove è stata fatta una programmazione economica è stata fatta una caratterizzazione ma dobbiamo capire quanto questo è esatto al cento per cento forse un po' di meno quindi in situazioni che non sono perfettamente in linea stiamo continuando ad approfondire attraverso vari partner lo dico subito e poi passo alle foto uno è quello di rispettare cioè che tutto venga fatto nella massima trasparenza e legalità al cento per cento possibilmente quindi abbiamo stipulato un protocollo di legalità col ministero dell'interno perché tutte le gare di cui il commissario è intestatario e lo facciamo attraverso otto stazioni appaltanti e vengono fatte ovviamente la massima trasparenza non ci siano inquinamenti infiltrazioni criminali e quindi le prefetture proprio in questi giorni oggi sono tornato da Bari e sono attente al momento in cui scattano le gare che ci siano i controlli nei cantieri dai passi alle persone che vengono lavorate ai subappalti e l'altro punto è quello di un protocollo effettuato con l'ANAC con l'autorità nazionale anticorruzione che tre appalti importanti che sono quelli di Augusta che è questo quello di Pizzo che vedremo anche in Vibo Valencia e quello di Lesina siano controllati con la vigilanza collaborativa cioè riesce a darci un'attenzione maggiore l'altro è quello che il protocollo l'abbiamo stipulato il 21 marzo del 2018 quindi pochi mesi fa ma per un anno quasi un anno abbiamo operato senza protocollo e allora abbiamo sviluppato per capire cosa c'era in questi territori qua e dando un dato statistico che un indice lo dà in questi 80 siti abbiamo effettuato 15 informativi dell'autorità giudiziaria 118 reati contro la pubblica amministrazione sono stati 110 reati e 18 reati contro l'ambiente qualcuno il traffico altro la bonifica l'omessa bonifica e altri dell'inquinamento cioè cercare quindi di far velocemente sicuro perché sono soldi del contribuente che dobbiamo cercare di sfarmiare ma fare bene sia di quello che era il passato e sia di quello che verrà dopo il commissario perché perché il commissario ha una dotazione di 110 milioni su cui stiamo lavorando per questi 80 siti gli appalti li facciamo attraverso 8 stazioni appaltanti pubbliche ma nonostante questo abbiamo fatto un avviso pubblico nel luglio del 2017 proprio perché anche col pubblico essendo una massa di soldi non banale potesse essere diciamo una concorrenza ma positiva una concorrenza pulita anche fra varie società pubbliche o anche comuni o anche i provvedorati alle opere pubbliche e questo diciamo che facendo una somma totale partendo da 42 milioni pagati nel 2 dicembre del 2014 diciamo che siamo arrivati a una cifra totale che lo Stato finora indubbiamente ha impiegato che è di 247 milioni che è una cifra enorme di sanzione pagata diciamo che io do il dato dal momento in cui ho iniziato l'attività dal 24 marzo 15 siti sono stati bonificati regolarizzati quindi messi fuori dalla progetto quindi non paghiamo più questo 13 siti li abbiamo mandati a Bruxelles con parete positiva ma stiamo aspettando la risposta a settembre perché li abbiamo mandati il 2 giugno e su 28 siti se ci confermeranno questi 13 annualmente risparmiamo una sanzione di una somma di 11 milioni e 200 mila euro quindi se a fronte e prima di questa cifra ovviamente c'è quella che il ministero dell'ambiente allora ha prodotto se da una parte c'è questa cifra enorme dall'altra c'è una cifra risormiale e soprattutto ci sono territori che territori che ritornano all'ambiente soprattutto brevemente passo a far vedere alcune immagini di quello che era veramente ormai l'archeologia di archeologia diciamo di queste situazioni questo è lo stadio Megara il nome di Agusta Gargallo Prioro Gargallo sappiamo che c'è l'impianto il petrolchimico per anni e anni è stata depositata la cena di Pirite credendo dicendo che non fa granché male comunque alcuni sa che non fa che non era un grandissimo problema la rata di Agusta lo sappiamo che è inquinata di cena di Pirite per cui addirittura è fuoriuscita dalla procedura perché disinquinare tutta la radia di Agusta è quasi un'impresa quasi impossibile è rimasto il campo di Agusta che oggi è chiuso o sequestrato che vorremmo restituire alla cittadinanza questo è materialmente il campo di Agusta che è stato edificato sui depositi di cenere di Pirite è stato poi sequestrato e chiuso perché fuori c'è se si va oggi c'è proprio il ferro che viene fuori e quindi anche la parte questo si deve bonificare abbiamo 6 milioni almeno con 6 milioni speriamo di fare un piccolo camping cioè in tanto di bonificare e portare via un bel circa più di 30 cm di suolo ma anche 60 cm di suolo e poi di fare un primo stato l'ottimale ma stiamo cercando gli altri fondi è quello di fare le cosette palancature cioè tutto attorno fare un blocco perché se no visto che attorno comunque la cena di Pirite permane ci potrebbe essere un inquinamento però almeno per restituire il campo alla cittadinanza e ai ragazzi questo devo dire che è un'opera meritoria questo è positivo allora questo è un sito oggi bonificato Belmonte Calabro Cosenza è fuoriuscito nel dicembre questo dello scorso anno vedete sono quasi tutte zone perché allora quel monitoraggio che si è fatto erano quasi tutte zone montane rurali perché perché i rifiuti tanti come sempre è stato almeno fino a pre DPR 915 si buttavano ma come dai tempi dei tempi delle caverne si buttavano nelle zone più lontane dall'uomo insomma per cercare di buttare i rifiuti lontano da noi il sistema era lo stesso non sapere buttarle e quindi sono quasi tutte zone acclivi che però questo insomma è un'opera devo dire ben fatta questo è Casalbordino Chieti Abruzzo sono 13 discariche che sono state fatte questa l'abbiamo chiesto di farla fuoriuscire ori anche qua a secondo situazioni che cosa succede o sono rifiuti totalmente mineralizzati cioè negli anni non producono più percolati per cui è la situazione migliore ci possono essere produzioni di percolati vengono gestiti come un po' anche questa opera fa vedere devono essere ovviamente gestioni ovviamente sostenibili insomma che non siano grandissime quantità di percolati anche questo come vedete Casalbordino è una zona rurale di vigneti una zona agricola anche di pregio però questo è Castelvedere abbiamo nove siti in provincia di Benevento vedete voi questa è la caratteristica tipologia cioè materialmente arrivavano i cami alla sommità e buttavano i rifiuti non c'era altro non c'era nessuna copertura a volte c'era uno studio litologico geologico per quanto meno se c'era argilla era molto meglio ma praticamente era un buttare è come se buttassimo dalla finestra da quel balcone buttassimo i nostri rifiuti la stessa situazione che ripeto avveniva quando è arrivato il 915 Chioggia Chioggia questo è il lavoro più grosso sono 37 milioni abbiamo 6 6 siti attorno a Marghera anche qua venivano ammonticchiati i rifiuti un tempo questa però era campagna oggi è diventata banchina quindi la si sta la si deve produrre anche per questo questo è Ioppolo Vibo Valencia vado un po' rapido Filettino questa è stata bonificata anche questa qua quello era prima e questo è dopo questo è stato fatto un lavoro proprio appena siamo arrivati l'abbiamo sistemata in quanto meno cosa si fa o si fa un capping diciamo giusto in materia oppure a volte dove non ci sono grandi inquinamenti a volte lo si manda poi a Bruxelles per vedere si può fare un capping anche con i terreni questa è l'esina foggia questa deve essere bonificata vedete come stanno le cose ma questo è solo quello che viene fuori perché si è abituati a buttare quella era di scarica e io ci continuo a buttare rifiuti ma tutto sotto sono tutti rifiuti ovviamente facciamo continua analisi per vedere che sotto effettivamente sono solo rifiuti solo urbani non sono altre cose lei si è la stessa cosa qua la vedete un po' di più la vedete rifiuti perché continua ma sotto sono rifiuti quindi questa che deve essere fatto deve essere intanto vedere che non ci sono più inquinamenti rifiuti pericolosi dopodiché deve essere deve essere messa in sicurezza se non ci sono prodotti percolati ma soprattutto si deve ricintare questi vengono resi obiettivo sensibile per i comitati provinciali di sicurezza pubblica c'è un controllo che viene fatto dall'arma dalle altre forze di polizia perché non ci si butta e non si ritorna alle vecchie abitudini di buttarci rifiuti questo sembra una cosa bellissima qua c'è anche una persona che è l'unica c'è una persona che ci abita e la persona che ci abita chi è? è colui che niente di meno circa venti e cinque anni fa ha comprato una discarica ha comprato una discarica illegale ci ha continuato e ci hanno continuato a buttare rifiuti fino a quando? fino a quando un giorno sono scoppiati rifiuti tossici che stanno sotto quindi ora la persona non vuole andare via perché perde la casa vorrebbe un indennizzo l'indennizzo diremmo che non gli può essere dato a dir poco e quindi stiamo ora inizierebbe a bonificarla e lui indubbiamente dobbiamo quantomeno cercare che forse qualche responsabilità ce l'ha Monreale Palermo stessa cosa questa è abbastanza bonificata questo lo vedete penso che l'avete visto prima prima ho visto insomma sono le soli sistemazioni che vedete Petrona ne abbiamo 22 in Calabria Puglia Nello Benevento questo era il pre e questo è il dopo San Calogero questo è molto vicino purtroppo a quella fornace dove c'è stato quel fatto delettuoso dell'altro di qualche settimana fa anche qua dobbiamo lavorare questo è Puglielo vado scusate vado rapido Sant'Arsedio questo Salerno questo è un altro grande intervento questo è bonificato San Filippo del Mela lo vedete questa è anche bonificata è stata si è cercato anche di renderlo fruibile dove è possibile insomma rendere un po' fruibile Riano Riano penso abbastanza famosa questo è 28 anni che Riano stiamo pagando purtroppo 28 anni insomma no dal 2014 stiamo pagando 400 mila euro che questo è l'unica di rifiuti pericolosi abbiamo effettuato con l'Istituto Geofisica e Vulcanologia e nuovamente i monitoraggi abbiamo tirato fuori gli ultimi fusti di metallo che sono e questa speriamo il prossimo 2 dicembre Pizzo Calabro una bellissima spiaggia sotto Pizzo nella spiaggia venivano arrivavano i camion e scaricavano rifiuti a tutta forza le mareggiate stanno continuando a scavare e a portare fuori tutti quanti i rifiuti quindi qua che teoricamente si potrebbe pensare a una messa in sicurezza cioè dopo tutto non c'è grande evoluzione per colare però lasciare i rifiuti sulla spiaggia ci sembra un delitto quindi una cifra la dico anche da 300 mila euro se la metti in sicurezza e abbiamo stanziato 4 milioni per portare i miei rifiuti perché devo dire insomma è un peccato più o meno 4 milioni dobbiamo fare la gara la terra non cresce un po' il nostro ma non il nostro il nostro molto in senso largo nel senso che sappiamo bene come ce la dobbiamo tenere molto cara e molto stretta la nostra terra ovviamente in senso lato e quindi se da una parte questa storia sicuramente brutta è negativa da tutti i punti di vista ci dice quello che non dobbiamo più fare quantomeno coscientemente ripeto un sindaco oggi non apre più nessuna discarica così ma nemmeno se lo sognerebbe assolutamente quanto meno sulle bonifiche sappiamo bene che è un grande tema dove occorre sicuramente continuare a farlo il panmetronalistone ma giusto questo è proprio finito tutte le cose diciamo in una banalità ma i greci insomma devono dire che ci insendiamo tante cose tutte le cose nella giusta misura sono le migliori nel senso che o sono 80 siti sono 80 punti di equilibrio diverso perché ogni sito non sa storia stiamo cercando di mettere un paletto un equilibrio perché ogni sito sia disinquinato e sia restituito in questo senso ecco di cercare l'equilibrio dell'equilibrio della nostra terra grazie 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 a Giuseppe Vatala credo sia stato istruttivo per tutti vedere che cosa accade quando l'economia non è né circolare né legale ma è un'eredità che continua a presentarci il conto segnalo questa cifra 247 milioni di euro di sanzioni che ci sono costate finora per questo scempio consumato negli anni allora però ci dobbiamo lasciare con un messaggio positivo dobbiamo tornare a guardare anche in qui c'è molto lavoro da fare ha seguito tutti i lavori del pomeriggio Sergio Cristofanelli direzione generale del ministro dell'ambiente ci prepariamo a concludere questa prima giornata e a passare il testimone a chi da domani tornerà a ragionare di economia circolare qui al nostro ecoforum allora proviamo a dare qualche indicazione su quello che c'è già in cantiere al ministro dell'ambiente per favorire questo processo e anche qualche suggerimento qualche suggestione che le viene da fare a chi ci ascolta lasciando il testimone per domani prego funziona ci siamo sì sì funziona ahimè prima di tutto un'osservazione ha delle slide da presentare tutte le buone pratiche sono forse tranne Cosmari che non ho capito bene dove si posiziona geograficamente parli al microfono perché non si sente Macerata 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 siamo nelle Marche a Macerata è a sud della linea gotica Tolentino come siete legati sono a nord della linea gotica e per di più vedo che tutte le discariche la gran parte sono a sud allora la prima cosa che ho fatto prima ho mandato un sms all'ufficio dicendo dammi al volo tre comuni virtuosi del sud giuro non ho detto che c'era presente Ivan Someo allora mi hanno detto al volo Salerno Mercato San Severino Melpignano e poi mi hanno mandato 50 comuni del sud più o meno con percentuali di raccolta differenziata che vanno tra l'ottanta e il novanta settanta lo dico per cento lo dico per dire che le buone pratiche si possono fare anche al sud dopodiché lo sappiamo benissimo che l'Italia è un po' divisa in due da questo punto di vista purtroppo ai miei figurarsi noi che abbiamo a che fare con la Sicilia che vi garantisco che è veramente una cosa che non ci fa dormire quindi però le buone pratiche sono possibili ovunque cosa facciamo noi per dare sviluppo nei limiti delle nostre possibilità a questo grande processo dell'economia circolare un'opera di sensibilizzazione la facciamo anche noi ci proviamo facciamo un po' di promotion culturale anche noi abbiamo pubblicato tenga se può scusate il microfono più vicino qualcuno magari l'avrà anche visto abbiamo pubblicato un po' di tempo fa un documento di posizionamento strategico sull'economia circolare non più di un paio di mesi fa o tre è pubblicato sul nostro sito stiamo anche sviluppando un set di indicatori di misurazione della circolarità anzi vi dico che andrà in consultazione pubblica credo che sarà posizionato sul nostro sito tra l'otto e il dieci di luglio invito ad andare a verificare perché i suggerimenti che ci potranno arrivare saranno preziosi è un set di indicatori peraltro elaborato insieme ad Enea e questo attiene molto alla parte culturale diciamo e poi ci sono le cose che dobbiamo fare che possiamo fare per concretamente costruire un quadro di norme entro le quali possa essere sviluppato questo grande processo virtuoso dell'economia circolare allora prima di tutto parto dagli obiettivi che ci pone la nuova direttiva rifiuti perché sono strettamente collegati poi al processo di circolarità ricordo che per gli urbani ci pone l'obiettivo al 2025 del 55% del 60% di riciclo del 60% al 2030 e del 65% al 2035 sono obiettivi estremamente ambiziosi ci pone anche obiettivi di riciclo degli imballaggi e poi ci pone il grande obiettivo del 10% al 2030 delle discariche ora per raggiungere questi obiettivi non c'è dubbio che noi dobbiamo sviluppare il ciclo virtuoso dell'economia circolare cosa possiamo fare noi e cosa stiamo facendo da questo punto di vista prima di tutto il rifiuto bisogna raccoglierlo e allora da questo punto di vista anche la direttiva pone delimita meglio rispetto a quanto non facesse prima i sistemi di responsabilità estesa del produttore già esisteva chiaramente nella precedente direttiva e nel 152 era stato recebito tutto il sistema di implementazione della responsabilità estesa del produttore ma nell'attuale direttiva vengono stabiliti dei requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore sono requisiti peraltro che noi nel devo dire pochi a dire la verità ma ci stiamo lavorando nei pochi sistemi di responsabilità estesa che stiamo ponendo in essere abbiamo già di cui teniamo già conto naturalmente sono in particolare l'informazione agli utenti perché la prima cosa è che gli utenti debbono sapere ad esempio faccio il materasso che è uno dei sistemi di responsabilità estesa del produttore al quale stiamo lavorando quello al quale francamente teniamo di più perché fra l'altro non so se avete idea di quanti materassi vengono prodotti e poi dopo diventano rifiuto in Italia circa 5 milioni l'anno circa 5 milioni l'anno di materassi che al momento per la gran parte non vengono raccolti semplicemente o vanno in discarica o ancora di più li troviamo in giro per strada ovunque tranne che nei posti in cui dovrebbero poi andare noi stiamo ormai siamo veramente all'allimatura mettendo in piedi questo sistema di raccolta dei materassi nel quale già prevediamo naturalmente i requisiti minimi che ci vengono che vengono disciplinati dalla nuova direttiva e che sono per l'appunto l'informazione agli utenti il monitoraggio e la comunicazione dei dati poi agli organismi che li debbono trattare la presenza di un contributo ambientale per il quale la direttiva prevede espressamente alcune voci di costo in particolare prevede che venga coperto il costo della raccolta il costo dell'informazione ripeto è un passaggio fondamentale i cittadini debbono essere informati di quali possibilità hanno di gestire virtuosamente il rifiuto che producono altrimenti io da questo punto di vista ho un pochino l'esperienza dei RAE voi sapete nei RAE esiste ad esempio due sistemi uno dell'uno contro zero e uno dell'uno contro uno per i grandi RAE per i piccoli RAE addirittura l'uno contro zero cioè la possibilità di portare il proprio telefonino ad un grande distributore perché parliamo solo di grandi distributori e quello ve lo deve raccogliere gratuitamente non dovete ricomprare nulla questo sistema è praticamente sconosciuto alla grande massa dei cittadini è evidente che poi nel momento in cui il cittadino dovrà smaltire il proprio telefonino o che altro magari lo farà anche in maniera non consona diciamo quindi l'informazione è assolutamente fondamentale poi l'altra cosa che possiamo fare l'altro decreto al quale stiamo lavorando è quello per i rifiuti da costruzione e demolizione anche lì siamo in una fase estremamente avanzata qui parliamo di 51 milioni di tonnellate l'anno di rifiuti da costruzione e demolizione è vero che pesano ma è tanta roba e questo sistema che stiamo mettendo in piedi per la raccolta noi pensiamo che sia una delle buone pratiche per poi sviluppare una circolarità di questo tipo di rifiuto da altro punto di vista poi naturalmente una volta che il rifiuto è stato raccolto c'è il problema di riutilizzarlo riutilizzarlo dopo che non è più un rifiuto quindi dopo che è stato sottoposto ad una procedura di recupero cosiddetta endowaste in questo senso invece stiamo veramente facendo tante cose non più tardi di un paio di giorni fa è stato pubblicato il primo decreto endowaste diciamo il primo no perché già ci sono i CSS ma del 2013 diciamo di una nuova era dei rifiuti è il primo è il decreto sul fresato d'asfalto che è stato pubblicato l'altro giorno il Pfu il polverino è assolutamente in fase conclusiva siamo i pannolini qui c'era Fader prima c'è una vicenda un pochino complessa sui pannolini forse vale la pena di spenderci due parole perché riguarda un pochino tutta la procedura di endowaste che voi sapete fino alla sentenza del Consiglio di Stato di un paio di mesi fa ormai era possibile autorizzare caso per caso dalle autorità competenti regionali o comunque locali la sentenza del Consiglio di Stato proprio sulla vicenda Fader ci ha detto che invece i criteri endowaste non possono essere definiti caso per caso dalle autorità locali ma poi debbono essere definiti solo ed esclusivamente a livello nazionale la qualcosa ben si comprende genera difficoltà di molti tipi perché intanto le tipologie di rifiuti sono quasi infinite e pensare che il Ministero possa fare per ogni tipologia di rifiuto un endowaste sì tutto si può fare però non si fa in due giorni chiaro d'altra parte il Consiglio di Stato qualche ragione ce l'aveva pure nel senso che comunque pensate io faccio sempre l'esempio di due impianti che sono vicini a 500 metri di distanza fanno lo stesso lavoro però ci passa una linea di confine in mezzo in teoria uno può essere autorizzato secondo certi requisiti e procedure l'altro in una regione diversa secondo altri requisiti e procedure genera sicuramente una disparità di trattamento che poi si può ripercuotere a livello concorrenziale della trasparenza e quant'altro quindi non è che il Consiglio di Stato abbia detto una cosa così campata in aria una sua base forte che ce l'aveva però di fatto questo ha generato a livello locale un pressoché blocco del rilascio delle autorizzazioni e quindi noi stiamo cercando di correre per fare i decreti in the west più possibile per la maggiore quantità di tipologie di rifiuti però ripeto è una battaglia persa da questo punto di vista ci è venuta però in soccorso la nuova direttiva che su nostra specifica richiesta ha previsto che i criteri in the west possano stavolta lo dice proprio con precisione prima lasciava qualche dubbio a interpretazione possano essere rilasciati dalle autorità punto primo dalla commissione ma non li farà mai punto secondi dallo Stato e certamente ne faremo il più possibile punto terzo però potranno essere rilasciate anche dalle autorità locali questo la direttiva lo dice espressamente quindi da questo punto di vista sarà un'apertura verso una più semplice modalità del rilascio delle autorizzazioni and the waste poi vediamo noi stiamo facendo anche quindi ecco il pannolini in questo momento è fermo perché stiamo rispondendo alle osservazioni perché poi comunque è andato avanti il pannolini il consiglio di Stato ci ha fatto qualche osservazione fra l'altro una abbastanza curiosa ci ha chiesto di mandarlo alla conferenza unificata delle regioni però se prima con una sentenza ci aveva detto guardate che è solo competenza dello Stato adesso sul caso concreto del decreto ci dice no però mandatelo pure alle regioni perché poi dopo sono loro che debbono rilasciare l'autorizzazione insomma non tutto gira proprio perfettamente una qualche contraddizione insomma sì diciamo vado di corsa c'è ragione no ma questo era un tema che ci appassiona lo immagino è molto lo sappiamo lo sappiamo che vi ha coinvolto abbiamo fatto comunque stiamo facendo anche il land of waste di costruzione e demolizione del pastello di piombo li elenco della vetroresina del plasmix e del pulfer o palper naturalmente il criterio con il quale ci avviciniamo a fare questo piuttosto che quel decreto è semplicemente quello delle segnalazioni che ci vengono dalla società civile e noi non è che stando nelle nostre stanzette abbiamo esattamente il quadro completo di quello che succede in giro quindi sulla base delle segnalazioni della società civile che noi sollecitiamo sempre perché sono quelle che ci consentono di fare provvedimenti in linea con il sentire con le necessità con le esigenze degli operatori accediamo a questo piuttosto che a un altro decreto l'ultima cosa che voglio dire il ricepimento adesso dobbiamo recepire la nuova direttiva noi la consideriamo veramente una straordinaria occasione perché ci piacerebbe per lo meno questa è l'idea passare da una legislazione sui rifiuti di tipo come dire io dico proibizionista che è quella del decreto Ronchi e del 152 piena di paletti di norme di ingessature ad una ma forse questo c'aveva anche un senso perché diciamolo nel 98 all'epoca del decreto Ronchi probabilmente il mondo dei rifiuti c'era abbastanza nel mondo dei rifiuti c'era parecchia di regulation per cui ci voleva un decreto magari un corpo normativo che fosse restrittivo oggi probabilmente non è più quella situazione là il mondo dei rifiuti continua ad essere frequentato non solo da gallantuomini diciamocelo però non è che perché c'è qualcuno che non riga dritto noi possiamo pensare ad un corpo normativo penalizzante per tutti io faccio l'esempio lo faccio sempre dei toner le cassette le cartucce di ricarica allora c'era una nota ditta che aveva messo in piedi sul territorio nazionale a oltre 1000 negozi un sistema di raccolta delle cartucce aveva in ogni negozio metteva un ecobox tu ci andavi prendevi un 50 centesimi di bonus più o meno credo e poi il camioncino della ditta autorizzato regolarmente passava ritirava le cartucce e le riciclava a momenti li arrestano perché quello è stoccaggio di rifiuti va autorizzato poi sono rifiuti pericolosi vanno autorizzati in maniera ancora più complessa risultato naturalmente il progetto è fallito e i toner vanno in discarica questa è una cosa che non si può sentire perché quello era un progetto virtuoso però il corpo normativo era tale per cui quell'attività è stata guardate noi ci abbiamo provato in tutte le maniere ad immaginare un modo per poterla consentire impossibile i toner vanno ancora in discarica allora noi dobbiamo pensare ad un approccio al ricevimento della nuova direttiva di tipo non permissivo ma evolutivo dobbiamo permettere che le cose si facciano poi dobbiamo anche pensare a un sistema di controlli però non è che possiamo perché diciamo ma tanto poi i controlli non ci saranno ma non è che perché pensiamo che i controlli non ci saranno possiamo mettere paletti e palettini ovunque secondo me dobbiamo pensare a sviluppare un sistema di controlli ma dall'altra parte lasciare libero chi vuole lavorare seriamente gli imprenditori che vogliono investire dobbiamo pensare di aiutarli e non di bloccarli con una serie di norme enormicelle che veramente ci siamo capiti allora qui mi fermo perché mi pare che siamo in là con i tempi vi ringrazio ma grazie di cuore per le sollecitazioni che ci ha dato l'idea di semplificare il quadro e rendere più incisivi i controlli penso convinca tutti l'abbiamo detto da questa mattina grazie ai relatori grazie a chi ci ha seguito con pazienza finora vi do appuntamento per domani mattina alle 10 di nuovo con l'Ecoforum per parlare di Green Public procurami la sfida dell'economia circolare ci sarà il ministro dell'ambiente Sergio Costa e poi nel pomeriggio le premiazioni con i comuni ricicloni buona serata a tutti e grazie grazie a tutti benissimo benissimo cari amici la diretta streaming dall'Ecoforum termina qui siamo molto contenti che ci abbiate seguito domani mattina alle 10 in diretta streaming su Facebook sulla pagina dell'Ecoforum e su la pagina dell'editoriale del giornale anzi la nuova ecologia diretto dall'amico Enrico Fontana io sono Sergio Ferraris a domani a fare le cose da soli ho parlato sulla sala che si stava svuotando mentre non ero in onda adesso sono in onda vi saluto e ringrazio tutto lo staff di Lega Ambiente che ha lavorato a questa diretta io sono Sergio Ferraris alla camera Walter Ferraris ai social Marco Del Poz ufficio stampa e social della nuova ecologia che hanno lavorato per diffondere anche questa diretta mi raccomando domani alle 10 non mancate grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti